Oh, eccoci qui, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in live, benvenuti in taverna, come andiamo? Come va questo martedì? Fa caldo anche da voi? C'è un pelu sul microfono? No, è una ragnatela, che cazzo è? Ma buonasera belli, buonasera vedo un Kyle, come stai bellissimo, vedo Panzi, bella come stai, vedo Gretima, vedo Fiorella, come stai bellissima, benvenuta E vedo anche il nostro caro Axel, che come al solito è sempre il primo in chat Come va gente, come va, sappiate che qui fa caldissimo, ma tipo a livelli mortali, fa così tanto caldo che potrei quasi sentire il mio caro Silvio È tipo il deserto del Sara dentro a sta stanza, è una cosa letalissima, buonasera Dab, come stai, bello, benvenuto Benvenuto, benvenuto stasera, si gioca Dragon Age, si gioca Dragon Age e vi ricordo che giovedì la live ci sarà pomeridiana Ci facciamo una bella lettura codex che dà tanto, pur di non saltare la live E ci recuperiamo, spero tutto, non credo mai nella vita, mai nella vita assolutamente riusciremo a recuperarceli tutti Però si vede, perché la maggior parte l'abbiamo letti, buonasera Arlo, come stai, bello, benvenuto Infatti tutti dirci sì, sono finiti i rapidi e indolori e adesso manca soltanto questo capitolo 3 E vediamo come va, intanto fatemi aprire tutte cose, perché come al solito il launcher EA è veramente fantastico E credo che 2-3 live e ce lo siamo tolto Dragon Age, non ci credo neanche io che siamo già alla fine del secondo capitolo della saga Non ci credo neanche io, spero di finire subito dalla porcchiera che non voglio perdermi niente Ma tranquilla Fiorella, fai con calma Ormai fai solo live di pomeriggio, la fama ti accambi... sì sì, quei 60 euro che mi vengono da Twitch ogni due mesi, raga Moneygrabber, come gestire la fama, grazie Che dopo devo farmi un piccolo ripasso È ora di aggiornare l'app E aggiorna sta app di merda Lagheremo un po' credo, perché sta aggiornando sta live, sta cazzo di app di EA del cazzo Senza dire c'era andato, sì, ma anche in realtà senza molte live iniziali Infatti seppure su Inquisition sento questa cosa, Kyle comincerò a fare la stessa cosa anche su Inquisition Perché parecchie delle live iniziali sono state così lunghe E soprattutto penso sia durato per lo più il primo capitolo così tanto Parte perché il primo capitolo è un pochino più, mi pare, grosso rispetto agli altri Ma soprattutto perché tu sei a livelli bassi, ci stanno scontri dietro ogni angolo Quindi se ti vuoi mettere a fare il completismo diventa un puttanaio Cioè diventa un puttanaio perché ti devi fare tutti i giretti di notte Devi andare a fare tutte le secondarie, devi andare a ridare gli oggettini a tutti quanti Cioè se io vedo una stessa cosa su Inquisition ve lo dico Me le faccio dietro le quinte che siano quelle cazzatine tipo le fetch quest Trova tutti gli oggettini Vai un attimo a capire nella prossima live dove cacchio dobbiamo andare e compagnia Anche perché fino ad adesso in Dragon Age 2 non mi è mai capitata sta cosa del Sono entrato in un pezzo di drama, fammi chiudere che devo farlo vedere in live Non mi è capitato mai ragazzi, sono andato in giro a fare cose A trovare, a finire quelle questine del cacchio chiamate tipo riporta l'oggettino Cioè sono mai un cazzo dato qua lagga perché Dragon Age parte Il tutorial, no ma già il parlare con i compagni Quello in live ci sta perché il parlare con i compagni è letteralmente il gioco Cioè il roleplay di come le interfacce, di quello che ti dicono E cazzo e mazze vari Però dico tutto appunto quelle quest come appunto i tutorial Il dover chillare 35 miliardi di persone affinché loro ti diano l'oggettino che ti dice Ehi guarda abito qui e devi andare poi ad aprire il culo a casa Cioè tutte ste robe, le cose in più di più livello messissimo Cioè è un casino, sono state un casino le prime live Quindi probabilmente con il senno del poi due tre live in meno Ma pure quattro sarebbero partite nel senso Datemi un momento qua che ovviamente yay fantastica come sempre Boni tutti Laggate varie E io direi di andare subito di iniziativa Subito di sigla Via Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci qui che tra l'altro abbiamo anche delle persone nuove Emerillion78 Menudc O Menadc Non so come si nomi Ninix2391 Quasi me per il follow vi faccio partire zitti zitti quatti quatti Benvenuti in taverna Vedo che Fiorella gli piace la nostra cara intro Qua mettiamo audio tutte cose Ma sai che c'è ma anche senza il silenzioso Sì ma facciamole partire così perché ovviamente giochi vecchi Rotture di coglioni nuove Alla fine scopriamo che è stato il maggior tomo Ma in realtà sono Cioè Per adesso io devo capire più che altro Qual è il punto Dove vuole arrivare Dragon Age 2 Cioè è quello il fatto Noi abbiamo vissuto il primo capitolo Ok Standard Il secondo capitolo I gunari che se l'ha sorpresa in culo Va bene Ok Terzo capitolo Penso che sarà il punto un po' più Pregno Che sarà sta guerra Templari maghi Però nel senso Non è come in Dragon Age Origins Che tu finisci e dici Ok Adesso abbiamo questo Però andiamo a vedere come va Buonasera Star Come stai bello? Benvenuto Il punto lo vedo tra poco Bene Buono così A che punto sono arrivato su Bioshock? Credo di stare tipo nell'ultima ora Mezz'ora Una roba del genere Infatti la prossima volta lo finiamo Buonasera Erion Come stai bella? Benvenuta Andiamo subito Si sono così collate rispetto Cioè Io ho finito Dragon Age Origins Che stavo un sacco Con l'hype Con le domande Col Dove andremo a parare No? Dove andremo a parare? Eh si Ho preso tutta l'armatura del daddy E sono entrato a casa Del caos Della distruzione Al momento che c'ho Una roba dentro al naso Via Tu che vuoi? Si perché sei a casa mia Vorrei sapere C'ho un barrick dentro Vabbè Benvenuto a trovare Cucciolino E tra l'altro La volta c'è una cosa lì Cosa c'è Meryl? Perché la volta scorsa Non c'era questa cosa? Ah minchia Gli stiamo dando Quell'anello Un momento che qua c'è tutto sputtanato Perché oggi ho sistemato Gli stiamo dando Quell'anello D'Alish Che era del Dreadwolf Non mi ricordo La cosa che mi ha dovuto Un pochino in Dagonish 2 È che nel trailer Rook durante lo scontro Colage usava la magia del sangue Poi c'è un incantissimo figo Che appariva due magi giganti E faceva il culo all'aricio Quello ci sta soltanto Nel prologo Fiorella E una versione mini Mentre combatti L'unico anello di magic L'ha trovato L'abbiamo trovato Due milioni È Dalish Ah ok C'era collegato effettivamente Buonasera Sunny Come stai belle Eh sì Ci sta Kiri Che sta sbavando Brutalmente Beh Ha un significato Eh perché lei È molto collegata Al Dreadwolf Quindi ci sta Io ti ando scherzando Ho trovato la carta base Dell'anello Non è quella Però vale 50 Che comunque Non si buttano È ok L'altro se è così No ma Pensa Calcola che è proprio Meryl che parla Molto molto bassina Quindi Ricordate sempre Che ci deve stare Quel minimo di bilanciamento Tra i cacchio di cose Di dialoghi E il fight Che mi esplode in culo Dopo averla tradita Ci sta che gli dai Un anello simile No dai Non mi ricordare Sa cosa Kyle Non l'ho fatto apposta Non l'ho fatto apposta Che palle Ancora Mi è stata ricordata Quella roba Che cazzo Di linea di dialogo Che ci portiamo dietro Adatto dobbiamo andare A fare la quest Di Isabella Figata star Figata Mi pare che l'avevo visto Portato da qualcuno Non mi ricordo chi Però Ah ci portiamo ovviamente Meryl Avelin E il nostro caro Varric Andiamo basic 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 E Andiamo a fare il male Non riposa mai Che dovrebbe essere La quest di Isabella No Anders Lo prenderei a cinghiate Non me lo posso portare Il gioco è stato molto È stato un fio di puttana Il gioco Vabbè Oh Madonna Che bello Però qua sotto Dopo Il time skip Tracci di Isabella Standard Non si sa che Ma infatti Fammi capire un attimo Parla con la comandante Merida In la sala dei templari Il primo incantatore Sta sfidando Piripiripiri Fede Giustizia Che è quella di Anders Segui le tracce di Isabella Un talismano Rivagnano Va bene Ha caga Sburato Probabilmente Perché se no È veramente Catarro Brutale Pensi di fino stasera Beh non credo Erion Perché ci stanno Ancora parecchie Quest Quindi conoscendo Dragon Age 2 Per come si tira Molto indietro Penso che ci vorranno Un'altra Due live Poi oh Magari È come Bioshock Che alla fine Si finisce In un attimo Vabbè tanto Sarà stata portata Nel solito Luogo di merda Dove la portano Sempre No Sarà Abbiamo cambiato Percorso Che tra l'altro Che è bella L'armatura del campione La adoro un sacco Non vedo l'ora di trovare I Come si chiamano I gambali E chissà se c'è Una sorta di elmo Tra l'altro Sarebbe molto Molto figo Doveva farlo No Una volta live Giusto L'ha fatta E inizio Dai 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 A caccia di Isabella Che ci ha fatto crashare Pure il gioco Porca puttana I money Sì Io spero Che su Inquisition Non ci saranno Ste cose Cioè alla fine Inquisition È un gioco Molto più Recente Dio Cristo Quindi io spero Cioè li accetto Magari due tre crash Ma lo aspetto Ovviamente molto Molto di meno Stranamente non me l'ha Rimesso tutto in finestra E fai riprendi Va Affanculo Chissà Dove ha salvato Ma poi Cioè sapete Qual è il fatto È che Da informatico Io sono abituato No Ai crash Delle cazzo di robe Cioè sono abituato Che io faccio Qualsiasi roba Mi crasha tutto Però C'è una motivazione Cioè nel senso Tu riesci a trovarlo Un ok Crasha per questo motivo Dopo un po' di Ricerche Cazzi e massiva No 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 Qua è che tu fai La cosa più innocente Del mondo Quale camminare Crasha il gioco Cosa cazzo vuol dire Tra l'altro Anche Kyle Sì Sai ricordo C'era l'elmo Però era solo Per il mago Però magari Se c'ha Uno scomparto Per le gemme Ci posso mettere Dentro quello Che gli toglie Le restrizioni Di classe E quindi Metterlo comunque Magari è fatta apposta Che Oak Deve avere Un Un elmo Ah se la vanno Porta proprio via E certo Potevamo pensarci Che il tizio Che la sta inseguendo Da tutta una vita Pirata Stessa al porto Effettivamente Però Ma tra l'altro Qua dobbiamo Livellare Tutti Briscola selvaggia Buonasera Benvenuto per la prima volta Madonna Quanta l'olio Ora hai visto Si O stai rispondendo Al nostro caro Star Bene il periodo In cui ho fatto Informatica Regola principale Se qualcosa Non funziona Non fatti domande Si quello Fino a che Arrivi a un certo punto Va bene Ma quando comincia A essere un errore Persistente Bisogna risolverlo Ah Merrill Ma non si può andare Oltre il 100 Ma scusa Ma non hanno messo Neanche il numero Ma vaffanculo Ma che scusa Cioè giustamente Il gioco Finiva tipo Al 7 Al 27 Al 23 Quanto cazzo era Quindi Capisco che non Se non sia stato Fatto queste cose Devo prendere tutto Prendiamo tutto Sì no esatto Ma non credo che ci si può Arrivare in un game Base A 100 Non credo Proprio 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 Va bene Giustamente Tu vai 100 a volontà Che è il massimo 54 A costituzione Ti posso rendere Ancora più Tancherina In qualche modo 10 punti Perché non gliel'ho messi Durante tutto Il cazzo Di DLC Ragazzi Non gliel'ho messi Durante tutto Il DLC Quindi giustamente Aveline è diventata Un mostro E si vede Siamo nell'end game Questo bisogna avere Andiamocene di qua Magari per toglierti Dalle palle Una furtività Te fa Te fa comodo Che flexano tutti Dub Tutti quanti Fortissimo Allora però La mia mente Deve togliere Determinate cose Aveline Tu proteggi subito Meryl Attiva questo Difesa con scudo Vediamo se ti posso Tirare parecchio avanti Sinergia Si è bagata Comunque la barra Sotto Perché non mi illumina La roba che sto utilizzando Se uso protezione Non va bene E Vabbè Rimaniamo così Rimaniamo così Andiamo In quale Ti infilo la runa Che toglie I prerequisiti De classe Così magari Ce l'abbiamo Effettivamente Un elmo Solito posto Ah c'è proprio Questo asset mega Utilizzato Uguale All'altro Sotto Va bene, ma Isabella può morire qua E che cazzo Eh sì, perché ovviamente quando tu stai per cazzi tuoi metti le trappole sulle scale Mi immagino la gente che bestemmia Boss, che cazzo sta cosa? Sta trappolata in merda Ovviamente, no? Ovviamente Isabella non è di nessuno, beh, la nostra cara Isabella Velasco, arciere pirata, arciere pirata Fatemi tornare anche nel mood un attimo Salve voi, eh Fortini Isabella come stai messa? Bene Un'altra trappola Cazzo Oddio c'è un assassino, boni, togliamolo subito dalle palle Subito via Stai da capire perché i dialoghi sono un pelino più bassi Perché sennò Questa roba vi entra in culo talmente forte Velasco ha sentito parole a Castillon È in strada Vediamo prima Voglio sapere perché è in Kirkwall Va bene Tu ci devi essere per forza Meryl e Aveline Varric se ne rimane un po' per cavoli suoi Vabbè, ma sarà venuto qua perché sapeva che c'è stavi tu? O S? Madonna, che bella sta armatura Peccato che si bugga tipo con ogni spadone possibile Cioè c'è questo gancio sulla schiena Che si bugga con qualsiasi roba Ho provato tutti, tutti gli spadone Che tra l'altro l'ho cambiato Ho preso questo qui che è un pelino più debole Ma è molto più figo Mi piace molto di più esteticamente Chiave dell'ufficio, coltello dell'unione Buonasera Neko, come stai? Bella benvenuta Vabbè, ma Isabella è Isabella, eh C'ha il suo... C'ha il suo charm La nostra cara Isabella Perché c'è una freccia al centro? Se è buggata la quest? Sì Va benissimo Va bene lo stesso Allora abbiamo livellato ma non lo faccio Ambrosia La Felicitus Aria Nota comunemente come rosa della pianura silenti È l'unica pianta in grado di crescere nelle pianure silenti Contaminata dal flagelo circa mille anni fa Come indicato nella sessione sulle piante da fiori rare La Felicitus Aria Non è tecnicamente una rosa Per quanto i suoi fiori emettano il dolce profumo tipico di questa pianta Il fiore è raro e a rischio di estinzione Privede la sua importanza nella creazione dell'ambrosia Distillata dalle radici della stessa pianta Per ottenere una sola fiala servono infatti decine di piante Pare che le mogli dei più potenti magistri del Tevininter Usassero l'ambrosia per profumare i propri bagni Una volgare ostentazione di ricchezza Sempre di Ines arancia Ci sta molto più stile Sì no questo ci sta molto molto bene Gael Perché è proprio spadone Non è un pisello dorato In bocca al lupo Neko In bocca al lupo Soldini ha livellato pure Isabella Abbiamo livellato tutti Questo è un materiale degli altri Quelli tipo unici Me coglioni Perché Ci dovrebbe essere una ricetta Che ci fa il fare un livello Una roba del genere Ora siamo tristi Che è successo? Che è successo Dav? Perché siete tristi? Documenti incriminati Anello Che mi sono perso in chat? Avelin E Velasco mi ha detto che stessi stessi Un piacere prezzi Justi aspettando per essere abitato Vedo che è pagato per questo piccolo errore Che è una bella smera Che fa Buon giocato Isabella Crossed e double crossed Vuoi parlare? Magari dovremmo parlare Di questi documenti Slaverà nei marchi liberi Ciò è Va bene ammazzare Distruggere Tradire Ragazzi e mazzi vari Però perché a Isabella Sappiamo che Gli schiavi No Eee Non Non vuoi ucciderlo E quanto può valere la sua parola? Perché è napoletana? Per questo gli dà fastidio Che cosa? Tra piselli e napoletane Dabbe stasera un fire Eee Perché questo ripensamento Giusto per sapere? Perché si vuole allontanare molto probabilmente Da Da Hulk Perché vede che gli sta a fare Un po' dei cambiamenti Psicologici Sì Che cosa succede Con ridere Castiglione? Lo sanno ridere Con ridere Con ridere Con ridere Con ridere Con ridere Con ridere È pricoloso Vi agravo il船 Doctore N'argo Castiglione È splendida Voglio Dà me le documenti, e tu puoi ottenere il船. E tu non oi mai mai oltre da me. Svegli. Svegli sulla mia madre. Dà me le documenti. Lo schiavista muore. Ma Isabella, ma che cazzo ti stai a far frullare in testa, oh? Cioè, a meno che lei non provi qualcosa. Non capisco questa decisione di Isabella. È no sense, onestamente. È molto... Boh. Nel senso. Castiglione, non so se hai capito che siamo endgame, ti apriamo il culo. Gli girano i coglioni, vorrei vedere. Ma non so, però. Beh, Castiglione era fatto de bongo. Non era lui mai nella vita. Scusa Isabella. Oddio, altra gente. Va bene. Ma in realtà sono tutti molto più deboli qua. Forse non l'hanno bilanciata, sta... ...sta zona qua. C'è un Mabari morto. Eeeh, vabbè, continua a spawnare gente. Ma sì, ma che cazzo ce ne frega tanto ormai. Che tra l'altro a me mi fanno pochissimo male perché l'armatura del... ...del campione è devastante. No, sì, ma infatti adesso ce lo spiegherà sperando che non mi sputa in tutti e due gli occhi, eh. Perché solitamente quando vai contro un personaggio in Dragon Age fa... Uh, pezzo de merda, eh. Io credevo in te. A casissimo. Salve. Chi è là sopra che sta lottando? E' Merrill? Questa è tutta colpa sì perché gli abbiamo poi riferito male le cose, Fiorella. Quindi le sta un po' a distorce. Palesemente. Madonna, c'è un assassino qua sopra addirittura. Ah, no, dici dei miliardi di nemici. A me che sarei effettivamente Castillon, questo pure pure. Quasi, quasi, lo accetto. Oppure cerca proprio da Mazzambe, però sarebbe greve. Cioè, sarebbe al livello di Alistair che ti ci fai un'intera avventura e poi se ne va per quella roba finale. Che per carità greve, eh. Però... Eh. Ho fatto... Ciò che era giusto? Pensi su questo. Voi sapete che non ha bisogno di camminare. No, non ha bisogno. E' davvero amato quando sei certo. Ma che cazzo... Vabbè. Cioè, perché qua se la imbruttisci, lei si imbruttisce ancora di più. Però se hai un buon rapporto e gli dici che era la cosa giusta da fare, invece si addolcisce. Sono... Sono perplesso da sta quest. Cioè, perché lei in realtà voleva inculasselo a sangue per poi vantarsene che lei è stata colei che aveva sconfitto sto signorino. Cioè, che l'aveva fregato, che l'aveva messo in ginocchio. Cioè, per quello che sei, inizialmente sarei incazzata. Ma hai fottuto la fama, essenzialmente. No, non credo sia quest fatta perché sicuramente bisognerà riparlargli perché chissà che cazzo è. Voleva farla... Eh sì, cioè, solo perché voleva magari farsi un po' più il nome che così poteva ridiventare capitano e tutte quelle robe. Vabbè, se vede che siamo riusciti dai DLC. Questa è la botta che ci meritiamo, che doveva arrivare. Bisognerà riabituarsi. Nel dubbio Wakanda Foreva. Andiamo di qua. Giustizia, dove dobbiamo andare con il signorino. No, in realtà non era qua. A piede libero. Incarichi dell'erborista. Giustizia. Massacro nella miniera. Andiamo alla forca. Che diamo un paio di oggettini. Oggi si gira per fare delle quest. Spero non troppo del cazzo. Anche perché prima di andare a parlare col comandante ci metteremo veramente un po'. Salve. Non so, raga. Mi ha lasciato stannato sta quest. Mi ha proprio buscamente stannato. No, la sala dei templari ci andremo molto più avanti. Devo parlare con te? Ah, forse è lui che ci dà l'altro pezzo di armatura. Reazione molto vera. A una persona che ti viene lì, un umano. Alto, ma dai. Diciamo un metro e novanta, se dobbiamo fare che Oak è grosso. Che ti dice, sai un alto drago? Una delle cose più temute tipo nel Tedas. L'ho ammazzato insieme al mio gruppo. Guarda che t'ho portato. Quello ti fa, ah bravo. Me coglioni. Basta. Va bene. Potete utilizzarla. Dente di Urzara. Dente di Urzara. Che schifo. Da campione addendista è un attimo. Cioè vedi, poi tu dici perché uso un equipaggiamento. Ma ho... Ho ammazzato un alto drago. Tutta la quest, il crafting, più una tutte le caratteristiche, venti assalute, cinquecento di resistenza al fuoco. Perché io dovrei sostituirla a una cosa che mi dà più cinque a tutte le stat? Dio madonna. Sì che ci sono rimasto male perché questi equipaggiamenti sono proprio... Cioè potevano... Un attimo... Insomma... Cioè dargli un po' più de spessore, no? Però è bello che almeno sto drago a quanto pare ci aveva un nome. Perché se il dente è suo... Poi non so come da una sacca per il fuoco ha craftato un dente. Ma... Dettagli. Devo parlare con te della nostra cara miniera che è esplosa. Le priorità innanzitutto, vero? No. E nemmeno lo ha fatto i lavoratori che morirono cercando di salvare. Oh, il mio cuore. Tanti anni di investimento. Sono ruincato. Ruincato. Scusate, campione. Apprecievo la tua scuola. Ma ho scelto tutti i miei coin in quella miniera morta. Non ho niente per farvi. Non ho fatto per i soldi. Sì, sì, ma perché siamo tutti del Te... Sì, del Tevin. Siamo tutti del Ferelden, quindi siamo merda. Per loro siamo della merda. Ti capisco, Star. Qua dentro fanno 39 gradi. Sto pezzando come uno schifo. Bravo. Tu che ce l'hai, utilizzalo. Va bene. Di qua ci sta qualche altra quest. Che tra l'altro la volta scorsa abbiamo visto la sorella di... Di Nathaniel. Tarbas. Tra l'altro... Aspetta, c'è... No, volevo cazzo. Soltanto le armi? No, Arlok, non è che non sudo, è che voi vedete questa cosa qui. Cioè, vedete questa schermata? Io qua sotto... A parte che c'ho una gamba che sta prendendo fuoco perché sta proprio a fianco al computer. Io sto pezzando, sto sudando come uno schifo. Però... Dettagli. Vabbè, perché magari... Però no. Cioè, non è che le riutilizzano le lame. Perché la lama è stata forgiata per una mano di un cunari specifico. Quindi magari le rifondono qualche cosa molto alla non rena che ave... Che è successo? Come i non reni che avevano fatto con tutte le loro piccole cose. Mi pare che avevano creato la sorta d'acciaio perché mettevano le ossa dei defunti all'interno della brace. Tutte quelle robe. Forse le considerano come anime. Eh, perché c'era molto sta cosa anche in Dragon Age 1, effettivamente. Volevo dire anche qualcos'altro, ma me lo so completamente dimenticato. Completamente dimenticato. Vabbè, ecco a te. Questo è quello che ho trovato. Preparoi di gold per questa task? No. Non sto facendo questo per i soldi. Molto bene. Calmo. C'avevo dietro un'orchestra, BOOM, sui tamburi. Dio madonna. Calmissimo. Calmissimo, porca Eva. Che tra l'altro, in realtà, dopo il DLC di Mark of the Assassin, i kunari mi stanno a cambiare molto di... Come posso dire, allineamento. Cioè, se prima io li vedevo come neutrali, come true neutrali, e adesso comincio a vederli come furbetti. Cioè, come abbiamo detto anche in un sacco di dialoghi, di robe lette, quanto sono veramente neutrali e quanto so furbi. Cioè, quanto fanno finta del noi siamo effettivamente piatti, ma in realtà dietro le quinte stiamo a cerca per inculatte, stiamo a muove e compagnia. Perché si ricollega molto anche all'Arishock. Che sì, per carità, ha sbottato perché ha sbottato, ma effettivamente dietro le quinte lui ha detto, ah, se li dobbiamo un culà, lo facciamo per bene. Quindi c'avevano i ladri, la gente che simpatizzava per loro. E stessa cosa, durante Mark of the Assassin, il fatto che tu dici, ah, no, non possono esistere le spie, no, le persone... Cioè, quel genere di branca di Kunari. Perché tu, se sei il vero neutrale, sei la vera cosa che non va né da una parte né dall'altra, quella è una roba che va totalmente contro le tue, chiamiamole, ideologie. Quindi, quanto stai a fare facciata che sei neutro e quanto in realtà dietro le quinte stai a fare le porchettonate vere? Perché secondo me i Kunari sono più stronzi di quel che danno a vedere, molto più stronzi. Magari non tutti, cioè non le foglie, perché magari le foglie, le persone che si convertono sicuramente ci credono. Cioè, è molto più probabile. Ma gli organi quelli un po' più grandi, secondo me... Parliamo con Delailao. Tu come sei arrivata qua adesso? Eh, esatto, cioè, sono neutrali ma tengono d'occhio i vicini. Ma secondo me, oltre a tenerli d'occhio, fanno pure... Fanno come il Giappone, che proprio pubblicamente non ha un esercito. Però se andate a vedere che c'ha dentro le varie cose il Giappone, è devastante. Ma parliamo con lei. Guardate quella cosa bella, che c'è stava Allister che ha fatto... No, no, non te posso di niente. Segretezza dei custodi grigi. Zitta, buona, cuccia, vai via. Questa è la prima persona che... Cioè, la prima persona è un cazzo, perché siamo il campione. E però ha sbiattellato tutto. Tutto quello dei custodi grigi. Vabbè, quello scemo di mio fratello. Ma poi, infatti, figata, potremmo rivedere anche Nathaniel. Ehm... Perché seguire le mie tracce? Eh, perché sono interessati all'Irium Rosso, i custodi. Allister in questo... Sì, sì, Allister che dovrebbe essere quello un po' più stupidino. Adesso lo sta sgozzando. Sì, tra l'altro siamo in piazza. Però sono interessati all'Irium Rosso. Forse perché vogliono utilizzarlo anche i custodi. Vogliono capire in che modo... Ehm... La Prolo Oscura lo corrompe. Perché effettivamente c'è chi meglio dei custodi grigi dovrebbe andare a guardare qualcosa. Però io devo ancora capire. Il protagonista del primo, il nostro Warden, dove cazzo è andato? Cioè, perché non se ne è sentito parlare veramente più in sette anni. Poi vabbè, perché sarà pure perché è Dragon Age 2. Però io voglio sapere che cazzo ha letto in quel libro. E per me, per adesso, sarà sempre il fatto che lui magari dentro quel libro ha scoperto un modo per non far morire i custodi grigi. Cioè, per togliere la... Come cazzo si dice? Quella roba che c'hanno per togliere il patto e tutte le robe che gli dà essere un custodi grigi. Cioè, no, non si è... E non se ne è andato in roba privata. E che lui dopo che ha letto quel cacchio del libro di Morrigan nel finale culmine... E' andato a fare qualcosa... Secondo me non se ne sono dimenticati. Anzi, so anche più che coscienti di sta cosa. Cioè, so più che coscienti. E secondo me in Dread Wolf... Sbuga a un certo punto che te fanno creare il tuo personaggio del primo. Cioè, sicuro... Sicuro te lo fanno creare, te lo fanno incontrare. In qualche modo ti ci fanno interagire. Perché il fatto è che... L'eroe del Ferelden, raga... Noi perché l'abbiamo vissuto così nel meme, ridendo, scherzando... Ma l'eroe del Ferelden... E dei custodi, insomma... È la persona più importante del Tedas. Cioè, colui che da solo ha messo su un esercito... Ha sbaragliato tutta la prole oscura... Ha ammazzato un arcidemone... È sopravvissuto e nel mentre ha anche sistemato... Tre quarti dei cazzi di tutto il Ferelden. Hai messo il... Eh, ma sarebbe figo se ti prendono tipo il volto in qualche modo... O te lo fanno proprio rifare... Perché immagino che da... Cioè, PlayStation 3, Xbox a... Oggigiorno sia molto molto differente. Forse vogliono capire se possono usarlo contro la prole oscura... O togliergli la corruzione. È quella la cosa, perché... Diciamo che... Dragonigio 1, il DLC, ha fatto sta cosa del... Poter usare il sangue dei custodi grigio sui prole oscura... Per fargli riprendere il senno. Per gli amici acculturati. Eh, spù. Ma comunque, ditemi di più. Perché non può! Va bene. Eh, esatto, Kyle. Diciamo... Ma calma. Cioè... Come ho detto anche dopo un po' in Dragon Age 2... Cassandra sta cercando... Perché ovviamente sappiamo in Inquisition ci sarà l'inquisitore... Eh, eh, eh. Cioè, Cassandra sta cercando qualcuno da mettere a capoccia dell'Inquisizione. E io non mi schioderò mai la prima persona che c'aveva in mente... Chi meglio del custode grigio. Però... S'è dato. Ok, andiamo dalla seconda, la campionessa. O moriamo o cediamo pure noi. E quindi poi saremo noi nel tre che facciamo il personaggio. Potrebbero fare l'abbassata di usare il protagonista canonico e sarebbe fighissimo, eh. A me piacerebbe un botto. Dispiacerebbe... Il non poter creare una roba unica o nuova. Però... Eh... Vabbè, andiamo a girare altre cose. Si immaginava che nelle prime profonde ci potevamo riportare Anders. Però Anders lo prenderebbe... Vabbè, ce lo dobbiamo portare per forza che se qualcuno si infetta... Poi so cazzi. Che poi so cazzi. Nunzio. Non è quello dei Dragon Age Origins? No, quello era un altro nome. Non era quello di Antiva? Ah, madonna. Gira Coavelin. Comunque te parlano tutti. Cazzo, pensapote quelle bugite anche che hai fatto l'abbonamento. O andiamo in pensione e affanculo il mondo. Beh, contando che siamo un custode grigio, la pensione noi non la vediamo neanche... A meno di quel protagonista. Non la vediamo neanche alla lontana, anche perché a 30 anni morono. Povere... Povere stelle. No, mi sa che tu sei quello di Dragon Age Origins. Sei... Quello... Che sa Denerim. Venite al punto. E' il nostro bellissimo Zevran. Invece gioco le palle. Anche perché lui stava ampicciato con Zevran. Non l'ho ammazzato. Rieccoci qua una volta da capo a 12. Con quale barba feed? Sì, questa ce l'ha attaccata proprio qua. C'ha un conetto. L'ha fatto con la pelle, con la cosa di capra, Tab. Ehm... Perché un nobile gli darebbe la caccia? Non sembra il tipo di uccidere assassini. Perché sei dopo lui? Per primaverso era solo un ucciso per Antiva. Ma dopo aver perduto così molti buoni per lui... ...l'ho diventato personale. E' niente ma un uccidio. Un uccidio e un uccidio. Non è che... Perché allora se ci stiamo a ricollegare veramente a Origins... ...non è che lui l'ha uccisi. Poi vabbè per carità Zevran è un figlio di una puttana. Perché è un figlio di puttana. Cioè... Si ha proprio canonicamente parlando che di indole. Però ne ha ammazzati così tanti perché c'aveva i corvi... ...alle spalle. Ehm... Lasciatemi indovinare. Vabbè. Vabbè. Voi non siete... E' il massacro dei corvi. Stava di voi. Non siete per niente dei corvi di Antiva che stanno a cercare di cacciare Zevran. Ma... Ma proprio mai. Ma infatti la sto andando a prendere Fiorella. Perché sicuramente Isabella... A parte che l'ha... Paradossalmente... ...incontrato... ...nella... ...la taverna di Redcliffe. Eh qua non si può cambiare un personaggio senza che devo andare in Congo. Vaffanculo. Vabbè che tanto devo cambiare zona perché devo cambiare zona. Ce l'andiamo a prendere. Magari la mettiamo al posto di Avelin. Perché pure Varric magari c'ha qualcosa da dire. Dov'è casa nostra? Eccoci qua. Varric è basito. Sta nel suo mondo di fantasia. Non so se avete fatto caso allo sguardo. Ah sì sì. Varric quando parliamo con qualsiasi persona penso sia perché è un tappo. E sta tipo... Aveva laggato fortissimo. Comunque Streamlabs e Stigioni sta dando delle cose. Eh ma io infatti... ...se a me non me l'aveste detto voi Fiorella... ...io non ci avrei pensato che era la stessa Isabella. Cioè magari di collegandomi qualche dialogo, lo stile... ...ok... ...ma c'è proprio... ...non si azzeccano esteticamente mai. Ciao Ghiri. Cosa gli hai insegnato? Bella sta frase. Perché sembra una cazzata? Ma in realtà è una citazione molto fine. È molto molto fine. Il famoso quadro con i cani che giocano no? Sta citando il quadro esatto. Che figa sta cosa. Bella bella. Il cane a quanto pare sì. Gioca anche a poker se glielo chiedi. Isabella, Warwick... ...ehm... ...un'altra elfa d'Alish che non fa male. Si vede che Isabella ha pagato un chirurgopedi. No. Si vede che finalmente da Origins... ...non hanno più avuto... ...tre veramente modelli del cazzo. E' quello il fatto... ...duv'era? Vabbè dobbiamo andare qua. Perché veramente in Origins... ...beh non male se tu potevi prendere anche la più vecchia del quartiere. 98 anni. Aveva il corpo di una diciottenne. Sì. Ma guarda che in generale Dav... ...i Mabari... ...sono estremamente intelligenti. Cioè non a caso sono frutto dell'esperimento... ...indominate chi? Non de' mago. Non no signore. Ma sono estremamente intelligenti... ...ed estremamente forti. Vabbè. C'è l'altro il Ferelde e i Mabari... ...li usa come cavalleria eh. Cioè li usa per sfondare le file nemiche. Per farvi capire. Però belli come animali. Molto molto belli. Andiamo giù. Salviamo perché sento un crash. Stiamo andando da Zevran. Perché tanto c'è ragazzi... ...è lui per forza perché è lui. Credo fosse una battuta ma non l'ho capita. Di che cosa Dav? Dei cani che giocano a poker? O non ho capito? Perché se dici quello che ha detto Varric... ...quello che ha detto Varric è una citazione a un famosissimo quadro. Poi magari sono anch'io che sono sciolta. Ah, cioè sarà qualche gioco di parole in inglese Dav sicuro. Non sta qua sotto? Ah no ma ha detto Die Dalish. Dio madonna è vero. Mi sono confuso, sì. Bello tra l'altro che sei andato a nascondere... Magari c'è stata la madre... No vabbè la madre è morta, povera. Mi sono totalmente confuso, perdonate il caldo. Porca Eva. Per quanto riguarda io mi aspettavo che facesse qualche battuta con buchi o altro... ...insomma per l'uncino. E il padre non era tipo un cacciatore umano da non mi ricordo che. Perché diciamo che Zevran non è che ha proprio l'infanzia più bella di sto mondo, eh. Ma manco alla lontana. Attenzione, un'altra volta l'accesso alle vie profonde. Bella come cosa. Una zona nuova, no. Vedete che ci ho preso! Nel cazzo di primo capitolo! Ci fanno riandare per quelle strade di merda. Perché dicono, eh tu devi rifare la stessa strada la volta scorsa. Adesso è tutto aperto! In quel posto di merda, mi ci gioco le palle! Ma vaffanculo! Io dice, vabbè no, sarà soltanto per ambientazione. Un cazzo! Asset riutilizzato veramente! Fin dal primo capitolo! Porca Eva! Ma comunque Isabella se farebbe pure un sasso. Cioè, se tu metti un sasso, gli dai una cosa un po' sexy, lo fai un po'... Gli scolpisci letteralmente gli addominali? Dai subito! Ci vuole un attimo, Dabbe, ci vuole un attimo. È come i nuovi, si li danno un po' a tutti. Però perché... Ah, ok, ecco perché devo parlare con te. I nera, tera... Ma questi sono tutti nuovi. Vabbè, cioè, o flirt, o sono qui per l'antivano. No, no, per carità, i sassi sono molto utili anche per piantarseli in... No, niente. Sono qui per l'antivano. Eh, ma l'hanno canonizzato poi nel due che ci stanno i mezzi-elfi, Fiorella. È quello il fatto. Cioè, nel primo c'era un po' quella cosa, però qua effettivamente pure, che ne so, come si chiama... Fenriel, c'ha le orecchie leggermente a punta. E penso che Zevran pure sia così. I primi litri della storia erano stassi levigati a forme faliche, è bello. Sì, sì, in giardino, in giardino, Dabbe. E... Intende consegnarsi? Perché è Zevran, che fa un po'... Il particolare. Sappiate che se è quella caverna laggiù, già l'ho tipo pulita da tanto, eh. Cioè, sta più niente là dentro. Che se muova, almeno. E però... Cioè, qua almeno mi hanno fatto vedere un mezzi-elfo, nel senso... Cioè, Fenriel è mezzi-elfo, infatti non è... È molto simile agli umani, ma ha le orecchie semi a punta. Quindi... Cioè... Credo. Credo l'abbiano canonizzato, poi per carità io so un cazzo. No, qua non c'ero mai entrato. Credo. È anche un po' il fatto come gli umani hanno sbloccato la magia, eh. Perché a forza dei mischiati sassi... È andato un po' di là. Salve. No, no, che la mamma di Zebran sia anelfa d'Alish lo era. Perché c'ha tutti i guanti, i cazzi e i mazzi vari, che poi si era trasferito, era finita nel bordello, tutte quelle cose. E il padre, mi ricordo, fosse una sorta di taglialegna che è morto poi da malattia o altre cose. Sempre cose belle, sia mai. Siamo di qua. Niente ragni, per favore, eh. Rano? Cioè, poi perché è da figata se l'hanno canonizzati proprio esteticamente? Figata. Va bene. Buonasera, Liquid, come stai? Bello, benvenuto. Guanti, darme. Ma la shit è fatta così. Pipidi. Che bella sta armatura, però chissà perché non gli hanno messo le placche anche, sai, nelle zone vitale come le gambe e il torace. Pipidi. Sarò un po' deluso. Mi assalterà, mi salta al collo. Zevran! Ragni di merda. Porca puttana. Va bene, va bene. Va bene. Tanto ormai siamo diventati delle macchine. È stata shottata cosa? Come cazzo è possibile? Motto degli umani è sbloccare le magie. Fidati di chi le ha provate tutte. Ah dai. Salve. Come va? Tutto bene. Finiti. Chissà che cos'è che l'ha shottata, Meryl. Eh, lo so, Meryl. Ti sei presa una botta sui denti fortissimi. Piastra? Aspetta, un ragno di merda mi ha dato un'armatura figa. Era un power-up. Era un power-up per Varric. In un ragno. Che cosa mi deve vuol dire? Vabbè, ma questi sono tutti i corvi d'antiva. Rilascia trappola, combessa. No, Meryl. 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 È buggata là sopra. E quindi? Non ci si può togliere. Eeeh. Aspetta, eccola. Ma che cazzo? Ci aveva caldo pure Meryl. Niente, ragni. Boni. Anello? Ho trovato una cosa importante. Meryl l'arrosto. Elfa arrosto. Buona, buona. Più, c'è. Di dipende. Però. Oggi si fanno scampagnate nei vecchi posti. Va là che bellino. Di qua? Niente. Pila di te. Ah, infatti, che ci fa ancora qua? Non l'avevo già ucciso. Ma un'altra volta. Cioè, questo nel caso tu non te ne fregassi un cazzo di Meryl. Non te sei fatto la quest di Meryl. Tu devono rifar vedere una volta. Perché se non sono contenti. È quello. È rimasto impigionato qui finché avrà qualcosa a sorvegliare. Il senso del dovere lo manterrà in vita. Va bene. Questa è una paraculata degli sviluppatori. Grossa come l'ira della madonna. È grossa veramente come l'ira della madonnina. Ho quasi shottato la signorina qua. Questa è proprio una paraculata. Paraculata. Perché allora io adesso devo ritornare in Origins. E devo vedere che cazzo ci sta là dentro. Perché ci sta ancora l'Eluvian. Poi diceva, no, l'Eluvian si è spento. Il libro se n'è andato a fanculo. Ma Orrigan pure. E quindi non ci sta. Paraculi, madonna. Eh, siamo P, signorino. Che te devo dire? Siamo P. Now you, I wasn't expecting. I thought I smelled Antivian leather. Ha ha ha, Isabella! If it isn't my favorite pirate wench. Ha ha ha, shouldn't you be dead by now? I could say the same, my dear. It seems we were both fortunate to find powerful friends, no? How do you do? My name is Zevran Aranae. Adventurer and occasional assassin. I must admit I was waiting for an assault by the cross, not the mighty champion of Kirkwall. Vabbè, lui l'hanno... L'hanno riadattato. L'hanno riadattato al nuovo design degli Elfi. Cioè, c'è sta che sia fatto così. Perché in Dragone e G1 era proprio... Cioè, l'Elfo era essenzialmente un cazzo di umano con l'orecchia punta. Eh, non è che c'era tutta sta diversità, era un po' più tappino. Basta. Eh, vabbè, meno fregno. Che tra l'altro mi sa che hanno censurato anche qualcosa. Perché l'ha chiamata Pirate Wench. Che dovrebbe essere tipo puttanone piradesco. Però vabbè, più simpatico che in Origins mi sembra... Ma no, ma il fatto è che in Origins è la prima volta che tu ci parli, Harlock. Lui comincia proprio in quinta a parlarti di... Mi puoi violentare, queste robe. Così tu fai... Va bene. Qua diciamo che hanno mantenuto l'asticella un po' più bassa. Perché sennò veniva devastato il gioco, probabilmente. E se hai amico di Isabella. Comunque è bello che Isabella credo se la sia fatta con chiunque. Cioè, giusto Meryl perché è innocente. Ma secondo me pure di nascosto. Ehm... Non sai come mi aspettavo. Che cazzo di problema... Ruka, c'hai Meryl dietro. Però diciamo dai, una volta che ti abiti non è... Beh, non è così brutto. Anzi, cioè ci sta con questa sua nuova estetica da elfo. Flirt, no, c'ho Meryl dietro. Non flirto neanche se mi pagano. Neanche se mi pagano ci flirt. Parte con Zevran dopo quello che è successo in origine. Sì, no, sicuramente le farebbe Kyle. Ma tipo pure per due monete. È l'ultima che hai detto. C'è anche detto che sei un giocatore che vuole. Oh, davvero sono. Ma tecnicamente, penso che tutti qui possono dire questo titolo. Travi a Nancio se vuoi. Ma ti warnico. È sicuramente intenzione a te uccidere. Però mi piace che io è rimasta questa cosa da masochista estremo che c'ha. Vabbè, è bello tra l'altro che c'ha pure l'armatura di Origins. Se sono quella di Kyle of Origins. Qua! Vada per i maltrattamenti. Qua, questo però perché non lo vedo come flirto, ma come tipo joke. Che ne pensi Isabela? You know him best. What do you think? I've had better. I meant about letting him go or not. Oh, right. I'd let him go. Eeeh. Che, però si sa bene. È possibile che tu dici, cioè, dici otto cose su dieci che sono cose sozze. Poi quelle due che sono quelle perle bellissime. Quindi la perdoni. Eh, ti con... No, eh, non ti consegnerò. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nunzio. If you don't, he will only come after you. It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. Ah, c'è, proprio letteralmente... E queste sono tutte queste lampo. La giusta pioggia. Frammento di corallo. Anello del cacciatore d'ombre. Sì, è letteralmente come Alistair. Cioè, appaiono per un attimo, fanno... Ah, ah! E se ne vanno. Basta. Cioè, secondo me pure Nataniel lo viene scrocchiato sul posto appena lo incontriamo. Perché se non si spiega. Aspetta, che è successo? Che me sono dimenticato? Vi togliete? Che me sono dimenticato? Nel buco di qua c'è qualcosa di interessante? No. Dimmi tutto, Fiorella. Perché tanto immagino che qua non ci ritroverò la roba se non torno indietro. Però non ci sta niente. Cioè, qua non si può aprire. Sopra ho controllato. Niente, ok. Vabbè, fate bene a fermarmi quando faccio così. Fate bene. Tra l'altro siamo appena arrivati a 40 gradi. Siamo arrivati. Campo antiv... Ah, c'è proprio... Si staccano gambe come se fossero dei chupa-chups. Ma non volevo dire quello. Ma non volevo dire che l'assassino che hai chiesto è stato un po' di loro. Ah, così Zevran ti ha detto, ha detto. È veramente non importa. Questa volta il suo warden non è qui per proteggere. Mi sono assolutamente disappointato. Nessuno fa i croi e vivono. Ah, po' stupido Nanzio. I croi si piacciono questo diciamo, ma io ho provato che è una lie. bella sta cosa però vedi qua un'altra cosa che hanno tradotto male non c'è un custode non ha detto non c'è un custode non c'è il suo custode dio madonna è diverso dio cristo perché sono idiotico comunque yes well let's see how that works out for you parte che si vedo che siamo stati tutti dagli stessi cinesi a comprare i coltelli vabbè poteva essere fatta meglio perché zevran ci ha detto come fanno ad essere così stupide ad attaccare voi un custode grigio e io ho detto perché sono incoglioniti perché se tu andresti ad attaccare una persona che da sola ha sconfitto mille duemila tremila persone che si è fatta in esercito da sola no non non credo lo faresti venite qua mamma chi ci sta vicino c'è zevran zevran lo shatterò secondo voi meglio non rischiare mi ha detto qualcosa ah sì non ormai ste parafrasi non ci faccio neanche più caso non non le noto più non le commento neanche più perché sono solo fastidio e non voglio farmi ruotere il fegato runzio sei fatto di merda pure i miei alleati ma quelli rimangono comunque assassini ma da quando è che isabella c'ha tutta stavita si dammi un attimo bravi che mi fanno controllare invece di far partire cazzi in acazza tonica da battaglia della prova corsa letto addirittura no vabbè quello ci sta più che altro che avrei preferito un bell'insulto del tipo perché sono dei rincoglioniti piuttosto che di a te faccio te te sdrumo mettiamola così nunzio tu alla fine sei morto eh ma albet è stato milisei cordioso ma ruga mango per il cazzo vabbè ma di qua non ci sarà niente perché sarà ah no invece si che c'è sta la roba eh si si stesso livello di parafrasi dio rubino imperfetto ci dobbiamo fare un rapido giro che magari ci sta qualche di quelle robe che ci servono per il crafting non si sa mai ok fortunatamente qua finisce subito uno stiletto ma poi che gli costava mettere la fine della zona laggiù che fai un muro la metti lì e basta guarda qua madonna mia sto pezzando come uno schifo non vedo l'ora che è di nuovo l'inverno che io non mi devo scaldare con la stufetta ma con il computer che c'ho accanto il giro più inutile del creato avrei preferito che partiva subito la cazzin a sto giro Zebran eccello killing my former brothers in arms is oddly satisfying I've little reward to offer you champion but perhaps this will serve as a token of my thanks my dear Isabella it has been a delight to see you again you travel in fine company that's it you're leaving what about sex ah Isabella I did so miss you that's because you have piss poor aim thankfully you have other uses that girl has curious standards ma scusate ma cosi sei andato a fanasco ma vabbè grande gioco fa ma se vabbè Isabella veramente è ovunque vabbè andiamo a fare la questina da Aniel già che ci sia no aspetta mi devo portare lì e Anders posso uscire da sto luogo spero ti supplico ci sarebbe stato bene il Trissom là però onestamente se tu fai un personaggio quasi allo stesso livello ci sarebbe stato bene farlo a tre con Isabella e Zebran devo cambiare il party insomma erano queste per risparmiare i soldi e a quanto pare si vabbè che giustamente cioè tra Zebran e Isabella che cazzo di discorso cioè ci poteva stare se non fare zumpede zumpede effettivamente allora Anders Meryl e Aveline se facevi la romance con Isabella lo puoi fare ma davvero ma che cacchio sei di ma figata grande gioco grande gioco grandissimo ah perché giustamente sto in una di quelle romance con il lucchetto come quella di Meryl quindi giustamente se lo facevo Meryl mi disanguava sul posto quindi meglio di no va bene ma queste non sono le vie profonde no si è che ci hanno fatto entrata un'altra zona credo va bene mi sguardo no no neanche così non lasciava le prove nego mi toglieva proprio il sangue con la magia del sangue la usava per farci un incantesimo arando eh giustamente ah c'è proprio una Dalian da solo come un ostro oh aiuto bro mi sta andando a aprire il culo va bene va bene va bene ah 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 ok sei ancora vivo allora meno male va binghi potenziamoci tutti madonna che no mi sa che è una zona differente non me lo ricordo perché dal primo capitolo è passato parecchio tempo cosa Nathaniel come c'è sei il campione di Kirkwall non sei? and 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 a fare amici sempre lo vedo ci pare sia che mi sembra sono speciale in quello è una forma diplaciarlo Perché stanno Ah beh Me l'avevo dimenticato Che a loro non gliene frega un cazzo Che Anders non c'è stato Quindi mi immagino che canonicamente Sia andata che lui si è unito Ed erano diventati amichetti loro due Anche perché sono entrambi essenzialmente Caotici quindi vanno proprio in sintonia Eeeh Chi vi ha detto del tag E che c'è va di qua Delilah dice che hai seguito Questa è la ruta della mia spedizione Ma perché? Sì, si è andata più in le spedizioni Che qualcuno credeva possibile Il primo warden Sì, si è andata Questa investigazione Mi sono offerto Una generosa parte del salvaggio Plus, un'extra coin Per farmi scoprire Qualcunque curiosità Ben tornato Star E Delilah Delilah sarà contenta Che tanto qua figata Perché se noi avessimo Risparmiato il demone Magari ritornandoci Poi dopo lo ritrovavamo E prima Rispondete ad altre domande Zio Stai parlando veramente Di non rompere un voto Della tua famiglia Vogliamo ricordare Tuo padre Che cosa ha fatto O O Sti sette anni Sono stati un bel refresh De memoria Però Vabbè capisco In realtà Perché dice Non voglio ancora Essere Molto di più Lo stronzo Però te vorrei Informa che tua sorella In piazza Si è messa a strillare Sta cosa Quindi Andiamo a salvare i vostri amici Madonna che era Che bella sta cazzo Neanche di Avelling Dici dobbiamo Proteggere gli scemi E loro che si mettono a fianco St'armatura per le Per i dialoghi La roba è molto molto bellina Veramente Veramente bellina E' tornata la pro Lo scuro Si posso andare di qua No Volevo attraversare il fuoco Per andare in mezzo Invece Mi mancano soltanto I gambali Che c'ho tipo E' come se vi mettete Tutti i vestiti Con la giacca La cravatta Perfetti Ma con le pantofole E' la stessa Stesso mood Ma quindi Nathaniel è diventato Dove è andato Ah no Cioè lui Sbobo si è teletrasportato Avanti e baffanculo Cioè lui ha detto Vabbè se vediamo più avanti Ma infatti Non ci posso ancora Pensare a sta cosa Perché sono diventati Molto più belli Però immagino anche Che erano pure Molto più presenti E a me non piace Molto quella De Origins Perché è figo Perché effettivamente Cioè Il mood Si Perché tipo L'urlock Ricorda a tutti gli effetti Un umano Corrotto Il Genlock Un nano E gli altri Però dovevano mantenere Diciamo Quel mood Lì Mettendoli Cioè facendoli salire Però di uno scalino Perché qua per esempio I genlock L'hanno fatti diventarti Piccoli Bodybuilder Muscolosissimi Niente ragni Per favore Preferisco I pro L'oscura Di gran lunga Ho visto una laggata Io salvo Anche perché Poi gli ogre Non l'hanno rifatti Hanno rifatto Soltanto Quelli base E tu Poi c'è qualcosa Poi c'è qualcosa Abbiamo visto la missione di Chaos Deve arrivare in Origins Si è vista la preparazione Allora se scoppia la guerra E il Chaos Viene un casino Che io Non ho capito Star Perdonami Cioè se intendi Il boato Che ha fatto La Pro L'oscura Si In Origini È stato molto 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 Più greve Tu Ma È vero Si Gli hanno messo tipo Un po' Di armaturina Addosso Che tra l'altro Ora che ci penso L'armatura nostra Ricorda molto Quella Della Pro L'oscura Cioè Questa è la cosa Che non ho capito Anche dall'armatura Il campione Se devo Vederla Come Qualcosa Solo Dei gameplay O delore E compagnia Perché ricorda Cioè Flemeth Quest'armatura È proprio L'oscura Sono molto Collegati Esteticamente Che abbiamo Tutti Sti guanti Con le unghiette Ste robe Molto Con gli spuntoni Dai toni Scuri Si Parla Essenzialmente Di facendo Di le domande Star Se intendi Quello Che tu gli dici Metal Gear Metal Gear Così Impostantemente Leva Che serve Oh Ok Ehi Come stiamo Messi qua Anders Stai per essere Shottato 1 2 3 Stella Non è stato Shottato Bravo Anders Bravo Stato Grazie per il support Con le pubblicità E anche Chi ha fatto L'abbonamento Di recente Le noto Veramente poco Perché appaiono Proprio Rapide Qua a fianco Altri livelli Ormai Siamo vicini al 50 Ma che livello Stiamo effettivamente Siamo al 49 Siamo quasi al cap Bonnie Bonnie Mettiamo Sti 35 Così facciamo Più danno Con i grit No Voi state Bene a Cooch Più tardi Michia Voleva far scoppiare Greve Perché molto probabilmente Capobranco Genlock Molto probabilmente Cioè non è che Volevano soltanto Per uccite Quanti più pro All'oscura Possibile Che lo stavano Facendo pure Per Chiudere Tutti i passaggi Verso sto Teig Vabbè Balestrieri Leve a caso Ah c'è proprio Per far si esplode Fortissimo Venghino Signori Venghino Ah c'è proprio Non te ne è fregato Niente Dell'esplosione Devo fare L'animazione Stronzi Madonna Aveline È diventata Una roccia Ancora di più Questa sembra Quasi Inimboscata Vabbè Aveline Sta bene Da sola Vabbè è vero Che l'avamo Istì Nel dlc Un capo Brancurlock Bella sta cosa Che hanno aggiunto Gli alfa Sta cosa Mi piace Un botto Tu cura Aveline Che gli ho fatto Un po' Troppi danni Nataniel Nataniel Ma perché Tu stai là Pur parler Cioè ho capito Che sei narciere Però non stare Con le retrovie Scoperte No Mi sembra Una mossa Alquanto stupida Un bobcat Di cosi Mamma mia Che botta Che gli ho tirato Dietro al culo Ad Aveline Gli ho tirato La sculacciata Più forte Della sua vita Fortissima Madonna Siete ancora vivi? Sì Cioè vedete L'armatura Dei Dei Urlock Ricorda Tremendamente La nostra Ma in generale Dei Prollo Scura Ricorda molto Molto La nostra A meno Che non sia Perché è tipo Armatura Del Tevinter Però tutti I Prollo Scura Nascono con L'armatura Del Tevinter Com'è possibile? Cioè perché Potrebbe essere Col fatto che È molto vecchia E tutto quanto Certo? Certo Questo è letteralmente Gli sviluppatori che ti fanno Prechi pichi pichi Ne riparliamo in Inquisition Ti avevo detto di piano per il culo Tu volevi sapere qualcosa Marameo Invece fu un cazzo Beccate sta fight Beccate sto sangue Basta Perché adesso finalmente è aperto qua dentro Che era quello dove volevo entrare Nel primo capitolo Spoiler non c'è un cazzo vero Porca ma Eh elmo da guerriero Incredibile Fortissimo Cinturino da gamba di palle di drago Potenziamento per Varric Va bene Ce ne andiamo via Capolavoro di Aurvar Pop tier Ma veramente è finito così Ma sta a far serio Raga mi sa che ci mettiamo due live In realtà Cioè se queste mi sembrano molto molto più Corticine Dicevo che Meryl fa dei complimenti un po' strani Cioè sarei curioso di andarci a letto con Meryl Secondo me dice delle cose che Ti stannano Per un attimo Tutte le guardie che devono salutare Aveline Va bene Ah non posso neanche andarci a riparlare con Delilah Ma porca Va bene Qua non ci stanno No raga Mi sa Andiamo a fare quell'altri due quest A piede libero No? Che è quella principale Giustizia Eh Eh Giustizia di ghiera Ok Nel tavere dell'impiccato Dobbiamo dare un talismano a una cosa Rincontrati stanotte con sorella Ogni signolo Allora andiamo alla taverna Andiamo stanelle Facciamo le chiacchierate Buonanotte Dav Grazie per essere stato con noi Bello Ci vediamo giovedì Che tanto domani Cioè ci sta la live eh Non salta in caso qualcuno avesse capito Il fatto è che giovedì facciamo quella pomeridiana Oh È quel tizio che ci aveva rotto i coglioni sulla costa Stiamo a parlare Veramente Credo Tipo ormai 16 live fa Eh Hai scelto tu questo nome Ok Sì giovedì Purtroppo c'ho un impegno la sera Quindi per non saltare la live ci facciamo una mega lettura codex pomeridiana Come al solito penso sarà tipo dalle 3 alle 6 Quegli orari là ma Non si va avanti le trama Se fa proprio delle letture codex pure Ehm Ma arrivederci Senti ma arrivederci Misa Panaedan Probabilmente Isabella Panaedan Mi spiegate però perché C'è sta come tavolino un barile Che è più quarto di voi Vabbè lo stesso vale per me Tu sei un buon amore E una source constanta di entusiasmo Oh, tu sai come si trattano a una ragazza È divertente Ora che penso a questo Prendere un barile non sembra così importante Non mi piace di avere a dire goodbye Tu sei il migliore amore che ho avuto In un molto lungo Un piacere A la amizia E a noi Ok, mi sa che questo è tipo Il pezzetto dove se tu hai un rapporto un po' così Un po' di là Magari decide se andarsene o se rimanere per sempre Un dildo di legno così No, si scherza È un dono A volte le persone get things for other people they like This is the part where you say thank you I know that you goose Don't you know what this is? It's a ravini fertility talisman These petal like shapes represent Certains fleshy bits And this protrusion is Well, just look Essenzialmente È come se noi a Isabella Gli avessimo appena detto Vogliamo farlo Cioè gli abbiamo dato tipo una Un bigliettino con Vuoi o no Perché Però Ehm Facciamo i provolori Sapevo bene cosa fosse I knew it was a little crude I just thought you'd appreciate it You like Vulgar things Well Yes Books with bawdy poetry And pictures to illustrate But this is Something else Ravini women would wear these So that their wombs would be fruitful And their marriages blessed with many children Not that they worked of course Seems to me You either have a fruitful womb Or you don't Thank you It's nice to have something to remind me of my homeland Ok Meno male Vabbè Queste in realtà erano cose pure piuttosto comuni Neanche nella nostra cultura Che ci stanno le statuette Le cose I ciondolini Ehm Dove volevo andare? Ah, volevo andare A vedere se è veramente l'Eliana Perché potrebbe essere Cioè in sette anni, raga I nostri protagonisti E potrebbero averne fatte Le cose Soprattutto l'Eliana Che ha portato I ceneri d'Andraste Cioè non è che ha portato Veramente lo spudacchio De Sanseverino Che cazzo ne so Ha portato I ceneri d'Andraste I ceneri della Madonna Nel senso Secondo me Qualcuno potrebbe essere diventata Io Sarvo Non si sa mai Adesso arriviamo C'è un'altra persona Totalmente Che mi sto portando Anders C'è un corno No eh Ti prego Dimmi che c'è un corno Qua sopra Perché vorrei portarmi Varric Qua dentro Ti prego Magari c'è un corno Dentro Ti prego Non fa parti subita Ragazzin Te supplico Ti prego Pormi vita loca Ok Eeeh Meryl Tu te ne rimani a casa Oggi Mi porto Aveline Ma l'ho dimenticato Che dovesse venire Per forza pure Sebastian Che tra l'altro Ci stiamo andando a infilare Anche in un luogo Molto particolare Perché la stanza del trono È rimasta off limit Appunto Cioè non ci può Entrare nessuno Madonna E sta merda di casa Matt Grazie mille per il Sì per il follow Grazie mille per l'abbonamento Benvenuto per Quattro mesi di fila Nella gang È sempre un piacere Averti qui E grazie veramente Per il support Magnifico Buonasera Buonasera No no Probabilmente Mi dovevo portare Fiorella Perché mi dovevo Eh sì Fiorella Isabella Perché? Perché se c'è Sta veramente L'Eliana Ti borso Dothra Come stai Bello Benvenuto Sempre sì Luigi Le hai fatte Eh esatto È quello Aspetta Aspetta Eh ma ormai Non posso cambiare Aveline Mi sa che te ne vai Affanculo Qui tutto bene C'è un caldo Porco Infinito No non posso Uscire No ormai Solo Però aspetta Magari posso Se adesso era tipo A inizio live Rido Spero di no No Meno male Buccio di culo Allora Varric Isabella E tu Dini Per forza Ma sapete Che qua dentro Ormai siamo Sui 42 E' veramente Mortale Easy No perché tanto È l'eliana Sicuro Ma No Mago del sangue È sicura Dessa scelta Che hai appena fatto Hai scelto Mortale Io te lo dico Io ve lo dico E addirittura Che è Un dee Va bene Va bene Nel posto più Amichevole Del quartiere Poi proprio Avete capito Che ormai Noi siamo Tipo Broken Siamo Endgame Fortissimi Ah Ok Perché facevano parte Di quella branca Delle torri Dei maghi Ecco perché stavano qui Non te lo chiedere Fiorella Non te lo chiedere Perché sono diventati Polvere Sono entrati Però figa Come è entrata È diventata Che tra l'altro infatti Quindi sei diventata La mano destra De Del papa Della papessa Perché c'è Quella Che abbiamo letto È proprio la capoccia Di tutta la chiesa No Ho messo sbagliato Sì la divina È la La capoccia Della chiesa Voi siete? Devo dire però Che eri più figa Nella mia run Di Origins Cioè qua Origins Vabbè che era moddata Per carità del cielo Era diciamo Canonica Come dovrebbe essere Però eri più bella lì Però Qua avrebbero dovuto Mantenergli il nome In inglese Perché io capisco Che Nightingale Si può tradurre Come usignolo No Però è più figo Nightingale Come nome Cioè qualcosa Di un po' più Greve Leliana Leliana Non mi sembri Tanto Non so perché Ma la mano destra Della divina Me l'aspettavo Vestita un po' più Figa Non inteso proprio Tipo sensuale Ma dico Proprio di qualità Cioè Sono più elegante Io Tra virgolettoni Che lei In questo momento Vabbè I risoluzionisti Li sappiamo Chi so So quella branca Dei circoli Dei maghi Perché Piccolo coso Per chi magari Non si è fatto Origina All'interno dei circoli Dei maghi Ci stanno diciamo I sottogruppi Che sono tipo Quelli che se vogliono Fasoli i cazzi loro Quelli che se vogliono Rivoluzionare E diventare liberi Quelli che fanno Un po' di bilanciamento Quelli che scornano Pesantemente Quelli che scornano De meno Ci stanno diciamo Tutte piccole Sottocategorie E i risoluzionisti Sono quelli un po' più Grevi Insomma Lei è sinistra E Cassandra Adesso Forse Eh sì Vabbè Quello Lascia perdere Fiorella Perché già che mi sono Ricordato Perché lei è tipo Quella un po' più schicci E Cassandra Invece è quella Più Pugno duro Infatti mi sa che È la sinistra Non la destra Vabbè Perdonate Beh Grazie per l'aiuto È l'ora della guerra santa Deus volt Cosa ha intenzione di fare Perchè E anche perché Kirkwall È È una bomba atomica Kirkwall Cioè ma io dico proprio anche a livello Fisico Se voi immaginatevi se succede un puttanaio Greve qua Tra templari e maghi Cioè con già tutti gli squarci I maghi del sangue, i gunari I morti, i portali I demoni Cioè se qua fanno a pizze pure i maghi Se crea uno squarcio nel velo Che madonna è a fine Cioè potrebbe essere veramente veramente greve E va bene E diciamo sì Se me la fai pensare così Matt ci sta come roba Perché se lei deve essere schicci schicci Un ladro C'è sta che Passo di rumore È scoppiato qualcosa dietro Ci sta che sia magari un pelino più Ser Maura Più furtiva così Stano di Sabella doveva dire qualcosa all'inizio Appena si vedevano Lo sai perché? Perché io mi sa Però no Sì no perché mi sa che quando stavo A Redcliffe Non ci andai con l'Eliana Perché a Redcliffe chi c'avevo? C'avevo Alistair Morrigan Io e forse Stan No mi sa che se sono viste però Non lo so Non lo ricordo Cioè perché ragazzi Stiamo a parlare del novembre dell'anno scorso Quindi Però bello che ci siano anche Questi piccoli dettagli Cioè del Se essere sott'incontrate Se hanno parlato e compagnia Va bene Si è capito che questo capitolo Sarà breve ma intenso Arrovo qualche insight Dalla diretta interessata Ah vedi tanto ormai Cioè mi ricordo Quei due tre personaggi Che ci stavano Ma perché sono andato di qua? No no devo andare per forza di qua Ma Sebastian Ma che discorso De merda Stai a fa? Che discorso Del cazzo è? Eh perché sei tornata Però non pensa Che tutto L'ammazzamento La guerra I sei anni De guerra fredda E de caos E de gente Che si squartava Che si rivoltava Che diceva Non ammazziamo i gunari Non stiamo con i gunari Era per via Di quella cazzo Delle reliquia Cioè io ho capito Che tu sei bonaccione Rincoglionito Però porca puttana Pure un po' di meno Dio madonna Passa col sugo Da quanto bello Benvenuto Come va? Come la va? Sei tornata Brava Però non penso A tutto il resto Addio Cristo Va bene Mi pare che ci manca Un'altra quest Torna alla chiesa E riferisci La signorina Trova le spade I gunari perduti Questa l'ho fatta Non so perché Continua a stare lì C'è un male antico Racchiuso sotto Chircolo Controlla la città oscura Per trovare un ingresso Magico nascoso Quando l'ho presa Sta quest Ah beh è vero Che nella live scossa Abbiamo trovato Tipo quella pergamena Quelle due tre pergamene Che erano Raga io mi devo andare A fare una doccia Ma che finisco la live E' bello che me la sono fatta Pure prima Porca Tanto sicuramente Il Tina dirà No io col cazzo Che me ne vado Allora non so se l'ha fatto Per flertare O se effettivamente Interessata a Varric Sei interessata a Varric Varric Megoglioni C'hai la Sifidida Probabilmente Però megoglioni Il lavoro sia pesantissimo Ma si va avanti Mi raccomando Riposati per bene Sì Ma te l'ha detto La Divina Cioè non te l'ha detta Zio Checco Che ti vendi i panini Sotto la chiesa Te l'ha detto La Divina Cioè se il Papa Te è venuto a dire Bro Mi sa che te ne devi andare Sarà perché vuole Fai esplode Geekwall O perché te vuole Che stai là a palazzo Che tra l'altro Greve Perché sei interessata Vabbè che pure lei Non è l'ultima Degli stronzi di rango Però Buonasera Giora come stai bello Benvenuto In Origins Potevi fare anche Una cosa Quattro con Isabella Zero L'Eliana E il tuo Madonna E che cazzo Salsicce Patons Ovunque Ma non ricordo come lo si poteva fare E dopo qui Isabella si riferiva L'Eliana Con il fatto che Isabella La faceva cantare Forse perché devi farci Cioè C'è quel check Da dover fare Mettetevi al sicuro Mettetevi al sicuro Impossibili modi In cui può scoppiare la guerra La divina Fa qualcosa di greve Qua a Kirkwall Che è quella Meno probabile Meredith Fa qualcosa di greve A Kirkwall Oppure Nuova Sbloccata Anders Fa esplodere la chiesa Anders il suo Fattaccio Chissà che cazzo è Lo fa qua Secondo me Perché c'è anche La statua di Meredith Ripensateci Ma in realtà Qua siamo con Ruka Fate come cazzo Per pare No no Non me lo dì Fiora Sì 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 Immagino il team Ma chi mai vorrà potermi attaccare Sono la grande Ci sta sotto proprio qua le scale Anders con le pietre focaglie Con una bomba Che cerca di accendere Aspetta puttana Poi ce lo penso io Non so perché Mi sono immaginato Questa scena Va bene Adesso giriamo l'angolo Ci sta Anders Con le pietre focaglie No Eh vabbè ormai Sì Sì È qua Dipende Se è qualcosa di questo capitolo No Jorak Però se vuoi scriverlo Magari lo cancella Kyle O non lo so Ah Sì sì Se l'è proprio Piantata qui Metto Da sola L'ha presa Pum In fronte Vabbè sì Esplode la chiesa Spero Non letteralmente Che cazzo dovevo fare Nella città oscura Sì Mi sa Bellissimo Chi oserà mai Attaccarmi Madonna Tutta Ghircola Che si sta leccando le labbra Anche perché sa Palesemente Che ci sta almeno Meredith Che se la vuole sbranà Cioè Lo sa che c'è Meredith A regione del creatore Mi ricorda per certi aspetti L'islam Perché si fanno esplodere O perché pensano Che ci sia un solo dio Come tipo Tante religioni Ah Ma tranquillo Non è al filo del rasoio Comunque facciamo Un sacco di black humor Quindi Transicchio Transicchio Ma nella città oscura Ci dovrebbe essere Anche un accesso Segreto magico Tipo qua No Forse è tenotte Perché cambia Ovviamente Mi fai scegliere Un party Grazie Meryl Varric Che tra l'altro Ci sto ripensando Adesso Sono stato Più io Sul filo del rasoio Che tu Jorak Greve Cioè Proprio così Analisi di coppia Entrando nelle fogne Quella cosa è vera Effettivamente Cioè Gli danno veramente Tanta tanta fiducia In qualcosa che Siamo felici Ma allora che cazzo rompi i coglioni Cioè te volevi far mannaffanculo Da Da Meryl e basta Fica Comunque Meryl e Anders Scornano parecchio Vabbè che Lo farei pure io Cioè parlo io Però Dettagli Solito dungeon Ma meglio Vuol dire che sarà Corto Ma perché è merda È letteralmente E' letteralmente merda Credo Che magari I residui De qualcosa Salve Neanche ero Powerappato Signorino Fa proprio cacare C'è stato qualcosa Che ha glitchato L'audio fortissimo Non so che cosa fosse Ma io nel dubbio Ho salvato Va bene E addirittura Addirittura Comunque che bella immagine Che mi ha messo Jorak Immagino questo Maccione Col barbone bianco Alle Maldiva Non fare un cazzo Ma ma Diciamo sì Che Qua è letteralmente Il toro Che dà del cornuto Al bue Però È risaputo Che il velo È sottile A Kirkwall E chissà Perché non c'è Da sorprendersi Vista la sofferenza Che affligge la città Tuttavia abbiamo scoperto Che i Magister Stavano contribuendo Da sottigliarlo Sotto la città I demoni Possono entrare in contatto Con la gente comune Cercavano forse La città nera Per dare un senso Alla follia Del loro operato Poi c'è dell'altro Abbiamo trovato Una stanza Dove il velo È più sottile Era stata saccheggiata Da tempo Ma il potere È ancora lì Stanotte Andremo a dare Un'occhiata Pregate per la nostra Incolumità In realtà Sti cosi Che noi stiamo trovando Sti pezzetti Di lore qua Che è stato Un solo Perché sono recenti So grevi Perché narrano Alcuni magister Del Tevinter Che assottigliano Il velo Che stanno Facendo delle robe Molto 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 Olosche Dietro le Le fila L'unico vero Dio Si chiama Salvataggio rapido Il mio Personalmente Sì Devi dire A webcam Che tu stia andando Fuori sync Alla L Perché Vabbè Dopo Dopo la guardo Perché questo Probabilmente Streamlabs Che Crash Crashicchiando Facendo i mini crash E cazzi e mazzi vari Piano piano Va in the sync Spero de no Va bene Stiamo raccogliendo Merda Sì sì ma immagino Perché appunto Era proprio Quei millesimi Di secondo Che poi piano piano Se vanno a sommare Quindi C'è sta Oppure sono io Che parlo con il ritardo Sarebbe incredibile Poi riguardandomi La live Se vedo che è Troppo troppo Greve Magari lo sistemo Io a mano Salve Eeeh La madonna Salve Questa è la bellezza Di Streamlabs Grandissimo software Prima o poi Tanto mi prende Lo schidi bizzo E passo a OBS Roba che magari Ci perdo Dietro una giornata O due Per settarlo Tutto E capirlo T'hanno fatto T'hanno fatto Proprio una frase Mortacci Vostra Magari Che ne so Anders Togliersi da mezzo Da mezzo La morte Pure tu Varric No Pur parli Eh ma può essere Magari che Perché Kyle Comunque Lavora Nell'edini E compagnia Magari C'ha l'occhio Più fine Quindi vede Quel leggero Robo Poi Vabbè Magari Anche La connessione Twitch In generale Che fa Cagare Quindi non Vi preoccupate Finché A me importa Che voi Non vedete Troppo Troppo Problema Che dà Fastidio C'è A me La cosa Finale Che frega E quella Lì Perché Veramente Sta cosa Me la ricordo Dei tempi In cui Facevamo Le stream Su Playstation 4 Tot anni Fa Che era Un puttanaio Veramente L'Elde Sink Era Veramente Duro Altra Gente Da sgozzare Ovviamente Questo Bello Che se Gli fai Un danno Abbastanza Alto Esplodono Secondo me L'hanno proprio Programmati Del If Danno Maggiore Di una Soia O togli Tot vita All'avversario Con un colpo Lo fai Esplodere Va bene Ma c'era C'era gente Parlava Con la bocca Chiusa Porca Puttana Lascia A perdere Ma che in realtà Ci sta anche Nella webcam Tipo Quando voi vedete Un flash Io lo vedo Un secondo Prima di voi E' una cosa Che mi dà Un urto Quando la vedo Però è talmente Tanto Impercettibile Che faccio Vabbè Stivale Di scaglie Di drago 84 Di armatura Tanto Restrizioni Ruka Oak Madonna Buonanotte Fiorella Ragazzi Per essere stata Con noi Bella Dormi bene Ci vediamo Domani Che si finisce Bioshocko Ah ma perché So No Non so Quelli Credo No no Pensavo fossero Quelli del campione Ma qua non c'hanno Senso Nella merda Me li fanno trovare Di qua Non c'è niente Va bene Quindi c'è un luogo Sotto Chircoli In cui stanno Facendo robe Robbe Molto Grevi Eh Si è dato La banda Dei tre Vabbè Questa è Una scampagnata Bas Vai a trovare La roba Quindi di qua Da qualche parte Ci dovrebbe essere Un accesso Magico A una zona Figuri Sperando che non sia Veramente De notte E perché mi viene Proprio da andare A casa Di Di Anders Oh Cheer up Blondie You're making me cry Just looking at you Don't You made a mistake It happens I killed a girl You've killed Two hundred and fifty four By my last count Plus about five hundred Men A few dozen Giants fighters And at least Two demons It's not the same Why Because this one You feel bad About Bello come Varric Ha fatto il discorso Che facciamo molte volte Noi eh Cioè ha detto Zio E gli altri 250 Che hai ammassato Quelli che erano Stronzi Figata Anche se è molto Da rottura Della quarta parete Quasi L'ho Sentita Molto Il La rottura Che già Che non sapevo Che era qua Andiamo Andiamo Questa è proprio Una missione Terziaria E adesso si scopre Che c'è dentro E adesso E adesso La storia vera è morta, il potere non è morto, ma io commando una pausa. Mentre lo stavo dicendo, sta ma rifà come su Dragon Age Origins, non si è mai visto un demone dell'orgoglio, questo è tipo il terzo che ammazziamo, perché è palesemente rifatta a quella stessa identica rottura di coglioni di Origins. A me sembra solo orgoglio, anzi no, ci risiamo. E perché è da bello, perché c'ha un doppiatore molto figo, Ibris. Sì sì, non si sa cosa succederebbe se un giorno un demone dell'orgoglio uscisse dal velo. Spoiler, ne sono usciti nove, però va bene. Penso che forse c'ha qualche mossa unica però. È inutile che attacchi Oak Oak, veramente è immortale. Cioè, raga, c'ha tipo 9000 di armatura, non credo possa essere buttata giù, onestamente. Ovviamente evochi anche altri demoni. C'è che per Keida in realtà questo c'ha pure molto più senso rispetto a Dragon Age Origins, è perché se veramente il velo è così sottile, forse è questa la stanza dove il velo è veramente, veramente tanto sottile, potrebbe essere. No, no, questi ovviamente li vendiamo perché sì, basta, XP e drop e compagnia. Cioè, però questo già lo accetto. Eh, che cazzo è sta roba? È nostro o è del signorino? Sì, sì, cioè, Kirkwall è morta per me alla fine del gioco, Kyle. Tiragli pure i sassi a sto... Ma più che altro qualcosa mi ha shottato. Forse perché ho attivato... ...quella modalità lì. Togliamoci magari da qua dentro. No, qualcosa proprio mi ha shottato fortissimo e basta, non ho capito che cos'era. Aveline vuole morire. Si è shotta pure Aveline e è fine, eh. Vuol dire che è proprio P. A meno che non si unbug di qualche moltiplicatore, eh. Perché può essere. Tra l'altro ecco perché mi sembrava familiare. Gli hanno messo l'asset e i moveset dell'ogre. Ecco perché non... Lo sentivo che c'era qualcosa di familiare. Porca puttana. Tu cura di Aveline. Mi ammazzo a demoni. La forma fisica di Ibis è stata sconfitta. Questa però non ho capito. È una... È una cazzo di runa... Denamode? No, perché è Guardian Rune. No, no. No, c'è scritto A Powerful Play... Che rende praticamente impossibile prendere avvantaggio di un combattente. All'interno di un combattente. Quindi magari ti aumenta la difesa, non ti fa fare i crit e altre cose. No, io spero di guardare... Meno male, è già meglio. Spada lunga. 30 dettagli elettrici. Questa, questa... Di assogge... Minchia, figo questo in realtà. 2.5% di probabilità di assoggettare i nemici normali. Cioè, di renderli alleati. Questo è figo. Ce l'hanno fatta. È stata veramente la rivalza di quello schifo d'armatura. Ma quindi basta? Sì, era... Mi sa che è veramente questa la stanza che abbiamo letto. E niente, armatura. 1 su 10. Arca puttana. Però dai. Cioè, a parte il 2,5% se non sei un ladro... A fine. Perché c'è... O c'hai un DPS... Veramente improponibile. Però... Meglio di niente. Voglio vedere sta runa che cosa fa. Perché se rende ancora più P la metto su Aveline. La metto su A... Ma tanto, abbiamo ancora un'ora di live. Io pensavo che si fosse fatta l'una di notte. In Bebex. Perché stasera è stata molto... Girare. Andiamo a fare l'altra parte della quest di Anders. Che tanto non se lo toglierà mai nella vita. Vendetta dentro. Anzi, mal che va... Diventa parte veramente integrante di se stesso. Poi magari se lo dogli e se ne va a fanculo, eh. Sono solo più che contento. Perché c'ho delle frecce? Alto Drago. Sì, l'ho già ucciso. Massacro la mia... Ah, no, se sono bancate. Vabbini. Vendetta vera, non finirò in galera. Bella città. Questo è Bartolini e sconti al bordello. Oggi è stato un episodio filler di un anime, essenzialmente. Sì, spero che il resto dei dragons non hanno ascoltato che questo posto sia sul mercato. Siete pronti ad andare? Pronti come mai. Siamo dovremmo scoprire i depositi di drakestone all'interno. Meryl... Eeeh... Varric... Sì, ha anche Varric. Adesso rientriamo ed insulta Meryl, porca puttana. E poi insulta Meryl e che rompe i coglioni. No, per ora ancora non ci sta meca ruca, Kyle. Quindi siamo ancora salvi. Ragno corrotto. Addirittura. Addirittura. Ragno corrotto vuol dire che c'è stata pro l'oscura. Guarda, se avessi avuto la possibilità a Stardammo che era senza capoccia, sto stronzo. Però ho dettagli. Però ho dettagli. La drachite. Una sborata per terra, però vabbè. Diciamo che è drachite. No, mi sa che non me lo spieg... Non me lo spiegheranno manco per il cazzo che cos'è la drachite. Niente. Un fungo di profondità. Però... Peccato. Magari queste cose le espanderanno in Inquisition. Anche perché me la ricordo molto vivida, sta cosa di Inquisition. Che tra l'altro adoravo del poterti creare e quasi anche personalizzare l'armature. Questa era una cosa che mi piaceva un botto. Poi non so se ha anche effetti sul gameplay, eh. Tipo che ne so che se tu metti giustamente la Silverite e il Viridium, sono difese differenti. Ma credo di sì. Perché altrimenti che cazzo stiamo a fa' però vedremo. Salva a tutti, eh. Mi chiamo Ciuffo e non rompete i coglioni, per favore. Quanti ragni stanno per spawnare? Yes. No? Sembra le macchie quelle di Bloodborne. Non mi ricordo che cacchio è quella roba tutta bianchiccia schificcia. Non mi viene adesso. Beh, guarda. Se te lo giochi già normale o facile, diventa una roba totalmente differente. Anche perché questi giochi ce l'hanno molte volte la difficoltà fatta anche soltanto per il rompere. Per il roleplay e per un gameplay semplice. Cioè, è meglio perché mi vedete giocato ad Incubo. E qua, d'altro, stiamo giocando ad Incubo proprio perché in Origins giocai a normale. Cioè, magari tu giochi Origins e fai tutte le cose, capisci come va il gioco e tutto quanto. E in Dragon Age 2 poi ti piglia bene e che ne so, vai a difficile. Anche perché tanto, io ripeto, tutta la Dragon Age saga, Cioè, per adesso, la trovate tipo tutta, con tutti i DLC di tutte le cose, a meno di 30€ su HRK. Cioè, se comprate Origins, con tutti i DLC costa tipo 5€. 4€. Dragon Age 2 stesso, quello che costa un po' di più è Inquisition, proprio perché giustamente è un pelino più recente, che non spawnerà un ragno gigante. No? Figuri? Tecnicamente ho Origins con tutti i DLC, poi il 2, poi il 3. Diciamo che fortunatamente questo iniziaò come i Metal Gear, che... Puttanaio. Quello non esiste. Schifo. Mi sono girato, stavo lì, che mi faceva, Hello General Kenobi. Buongiorno a lei. Mi dice, per me potrebbe essere il compatibilità con il PC. Eh, quello sì, però se te lo giochi già senza mod e cazzi e mazzi vari, diventa ancora ancora più semplice. E' molto meno instabile. Anche se... Il sudore fatto per la battaglia finale d'Origins, porca puttana. Non me lo restituirà veramente nessuno. Comunque Rooka è diventata... Una macchina da morte. Basta ricordare di salvare i spetti. Metti una key, una macro KL, che ogni 10 minuti preme da solo F3. Anzi, ogni 2 minuti. Metti me le porte, madonna. Salve. Dai che qua dietro ci sta qualche materiale. C'è un baule. Anche perché se qualcosa vi ispira, ragazzi, non vi tirate mai indietro magari per qualcosa che dite Ah, cazzo, non ci so bravo compagnia. Perché magari appunto il fatto che vi intriga qualcosa, che vi piace qualcosa, vi spinge a impararvelo, a farvelo per bene. Cioè, basta di vedere io con... Vostra madre a pecora. Che cazzo stava di con Street Fighter? Che io sono totalmente... Ero totalmente nuovo, è ancora adesso, per carità. Però mi ci sono infilato dentro a cercare di capire. Magno di merda. Di parte anche quello. Cioè, pure Resident Evil che sono giocate la difficoltà massima, veramente le persone sono fatte da Damantio, Wolverine. Giocare la difficoltà minima sono fatti di Burr. Anche perché hanno proprio la pool di vita. Ma c'è quindi, è stata proprio una gita di nuovo. Bravi tutti! Alla prossima! Va bene. Ok. Spero che... In Inquisition noi saremmo un inquis... Cioè, saremmo tipo il capoccia dell'Inquisizione, no? Io spero che posso mandare la gente a fare gli scavi. Dio madonna. Li mando a loro, a 3-4 Elfi di merda, li mando nelle miniere. Porca puttana. Vi prego, ditemi che posso fargli scavare la pietra. Io con Street Fighter 6 stavo quasi rinunciando a fare le competitive e troppi pochi punti e plati. Diciamo che quello... Perché devi andare molto in streak. Quella è la... Cioè, ci sta anche la cosa no, che tu più ne vinci di fila, più ti aumenta il moltiplicatore. Torniamo qua. Dragon Age Slavery. Madonna sì! Faccio come veramente il nuovo Impero Tevinter faccio, porca puttana. Infatti, per questa cosa, Jorak, io mi sono andato a infilare in un rank che non era il mio. Perché ne avevo vinte 11 di fila e lui mi ha detto Sì, sì, sei un bronzetto. Col cazzo che sono un bronzo. Cioè, il colore più o meno è quello, della merda, ma non sono un bronzo. Pa pa pa. Qua come al solito c'è l'esplosione. Cos'è perché non fa più ride Varric? Perché ci hai preso. Perché ci hai preso? Perché vuole farlo davvero. Però dettagli. Ah, dal Platinum in poi non ci sono... Eh, scusa. Ma come? Sì, a voglia. Se vuoi comprarlo da un luogo come Cristo Comando, ufficiale, a voglia. Sì, sì. Ma anzi, forse... A me che se non sei magari avvezzo con le chi... No, però è un buon prezzo. Anche perché ci stanno dentro tutti i DLC del creato. Mi sembra un po' strano 9 euro da Steam. Controlla, perché tanto te lo dovrai scaricare per forza l'IA Launcher, eh. Perché tu lo devi scaricare per forza. Quindi magari controlla su EA. There is one more thing I would ask of you, Hawk. And I can't tell you why. I must get inside the Chantry, without being seen. Will you talk to the Grand Cleric for me? Distract her long enough for me to do what must be done. E ciò che deve essere fatto, che è? Tell me your plan. You would not thank me if I told you. If you support freedom for mages, help me. That's all I can say. Molto sospetto. What is it that you don't want me to see? You said you believe in me. Again and again you have shown your support for mages. Then trust me now. I am doing only what is necessary. And you trust me? I can't act blindly. Tell me your plan. I am taking a risk. I would not see you drawn into it. But maybe your support of mages ends a talk. It's easier to support freedom if no one must die to achieve it. You cannot pretend friendship. Then stop now. Io sono tuo amico. Amiga. Però me devi un attimo fa capì. Being a friend doesn't mean I have to agree with your every decision. You cannot care for me and despise what I stand for. I am the cause of mages. There is nothing else inside me. Will you aid us now? Or does your support stop at the Chantry door? No. That's unfair. I will not be blackmailed into aiding some mad scheme. You're on your own. I have always been on my own. For a time I just forgot. Ma what is enough for a culo Anders? Ma vai, vai veramente a cagare, vai. Sette anni che te paramo il culo tutti quanti. No, no, raga. Io non lo porto davanti alla chiesa. Dopo tutte ste cose. Cazzi e mazzi vari. Le esplosioni. I casini. Non lo porto dentro la chiesa. Perché chissà che cazzo si deve mettere a fa' lui come minimo. Probabilmente c'è qualcosa dentro la chiesa che è importante. I famosi ossetti che doveva portare il Tina via. Qualcosa del genere. Andiamo alla chiesa. Anche perché tanto io sono abbastanza al sicuro di parlo 80% che sta chiesa sarà rasa al suolo. E dentro a stato demerit diventa polvere. Anche perché è il simbolo essenzialmente. E allora mi sa che gli conviene su Steam. Varric non è nel mood di fare battute. Perché sta per fare un attentato magico. Glielo leggo nelle palle degli occhi digitali. Glielo leggo nelle palle degli occhi. Mi ha detto che ti devo parlare? Ok. Quindi hai deciso di lasciare Porto Brullo. Che cosa sui loro persone? Beh, possono aspettare. Starchhaven non beneficisce se Kirkwall falle. Ma se questi Maleficarum rebelano contro il Knight Commander, Elthina will put herself between them and be torn aparte. I must try to make her see reason. This cannot end well. Hawke should do it. Kirkwall needs a Viscount. Have you asked her if she even wants that? I watched my parents in Starchhaven. When times are good, the city rules itself. Years could pass and no one would notice who's Prince. But when there's famine, when there's war, people look to their leaders. Who does Kirkwall have beyond Hawke? This is probably a conversation for the two of you to have. You want me to be Viscount? Andraste said the maker is king in the heavens. But it is the kings of Thetis who must recreate his worldly glory. I keep thinking about that. Who better serves the maker? A brother of the faith or a prince who can sway a whole city? These are a lot of discussion of chiesa. Cioè, of a person that is a bazzica from those parts. But they are, maybe, what would they not do to do? They are for scont to that if you speak with Sebastian, you are going to that little bit of trama. But, well, it is a prince. A prince can bring the word of Andraste to everyone under his rule. Elthina is risking her life by not deserting her flock. Could I do the same? It's been 15 years since I lived in Starkhaven. The people there are only a memory to me. Kirkwall, the Chantry, that's real. That's where I belong. For the rest of your life, you'll wonder what would have happened if you'd gone back. Perhaps. But I'd rather that than wonder what a bunch of lunatic mages did to her grace. I do appreciate you hearing me out. You've been a good friend, Hawk. I will stay as much for you as for her grace. Come siamo messi? Va bene. Abbiamo fatto un paio di dialoghi scornanti. Però c'è sta. Cioè, siamo anche alle battute finali. Io non... Sentendo sta puzza di bruciato gigante non voglio... Non voglio fare determinate cose. Allora, facciamoci giusto un giro nelle varie zone per vedere se ci stanno delle quest. Perché se no dobbiamo andare direttamente da Meredith. Ve lo dico. Anche perché non abbiamo le spede perdute, ok? Ma saranno più avanti. Qua non c'è niente. La città oscura ci siamo appena stati e non ci sta niente. Al porto di notte vediamo la sua città superiore. Ma mi sa che veramente se non sia per la lettura codex della prossima volta... Stiamo addirittura d'arrivo, eh. Stiamo addirittura d'arrivo. Non pensavo durasse così poco il terzo capitolo, onestamente. Non lo pensavo affatto. Comunque sì, Star. Farò in modo che veramente se posso dargli una botta sui denti a quello stronzo di Anders, gliela darò. Qua? Niente. Eh, perché mi pare che Origins... Quanto durò? Tipo una trentina di live. Va bene che Origins era pure un po' più... Serio. Ma in realtà penso anche alla prossima. Cioè se dopo che chiacchieriamo con Meredith non sbucano altre 300... Altre 300 quest, come succede ogni volta che tu arrivi in metà capitolo e spawn una lira di Cristo, si va di trama principale. E diceva alla fine hanno aumentato non poco. Ma anche perché i DLC li abbiamo finiti in quattro live. Cioè, ci abbiamo messo una live e mezza DLC. Che sono state tra l'altro la parte più bella. Però va bene. Cioè è meglio, eh. Perché se riesco a finire un gioco così lungo pre-pause estiva è buono. Senza che spezziamo brutalmente, no? E andiamo da Meredith. E l'abbiamo già fatti, Star. Mark of the Assassin e Legacy erano in DLC. Ah, questa era Meredith, ci potevo pensare. Ma era asset riutilizzato? Feriel. La zona in cui stavamo nell'oblio. Stava vedendo la forca. Era nella forca. Ok. Ah beh, ma ci sta roba da portare più avanti. Anche magari più leggera. Perché, ripeto, dopo Rii... Eh sì, dopo Rii. Dopo Dragon Age 2 che è stato bello, più pesantino. Vorrei portare qualcosa anche di più leggero. Oppure far prevalere una delle altre serie. Cioè, magari portiamo tre volte a settimana il Street Fighter e altri due... No, tre volte a settimana, ne so, The Space e altri due Street Fighter. Perché voglio anche rimettere un po' in sesto tutta quella roba che c'è dietro le live, ragazzi. Perché io c'ho ancora il mischiaticcio del clip del Bioshock, del Street Fighter, del Bayonetta. Cioè, c'ho tutto quel mischiaticcio di fili. Quindi magari ne approfitto pure per sistemare quella roba. Salve. Sì, non ci stai a credere neanche tu in sta puttana che hai appena detto. Mi templo. Mi templo con Dead Space. Quindi questo... Ok. Figata. Ah, ma tanto Bioshock la prossima volta lo finiamo. Quindi sono più... Sì, però mi sa più di asset riutilizzato. Però penso che faremo Street Fighter e Dead Space. Di qua. Ah, scusate, ma Orsino... E Meredith hanno gli uffici uno davanti all'altro? Ditelo palesemente che fate le cosacce. Sicuro. In realtà il vostro è solo amore. Sicuro. Cioè, tu ho portato Meryl davanti a Meredith, ma non penso gliene freghi un cavolo. Tu? Va bene. Andiamo da Meredith. Non è qua. Andiamo da Meredith. Cosa volete? Posso aiutarvi? Cosa è questa cosa urgente che hai parlato? Non posso occuparsi nei vostri templari? Va bene. Come avrete notato anche da come ho chiacchierato con Anders. Oak, per quanto ci abbia la fidanzata maga del sangue, tutte quelle cose. N'ha vista tanta, te merda. Cioè, Oak... Per quanto non voglia dare ragione a Meredith, dice... Eh, se questi sgravano, sgravano. Cioè, se un mago diventa cattivo, non sarà mai come un templare che gli girano i coglioni. Perché, per carità, il templare te smita in bocca, quello che cazzo che vuoi. Ma non può evocar demoni. Anche se, vabbè, abbiamo visto altre cose. Un po' evoca demoni, un po' spara a palle de' fuoco, tempeste de' fuoco, de' fulmini. Di succhiate la vita, usate come spugnetta. Insomma, farò del mio meglio. Io vedo, cosa posso fare. Sono rilassata. Mi aspettavo resistenza dopo questo debattro al mercato. Parla con queste famiglie di magia. Spreta dove stanno scendendo, e le trovi prima di farlo. Vrai vedere, che l'imprisono o la morte, è a volte l'unica gentile che possiamo offrire. Parla con mia assistante Elsa. La può dire cosa che bisogna sapere sui dei fugitivi. Ti chiedo buona giornata, champion. Non ci avevo fatto caso. Tu te sei fatta un'assistente che era un ex mago. E mo' è un'adeptata alla calma. Non l'avevo notato quel simbolo sulla fronte. Parlatemi di Won. Parlami di Evelina. Nel Ferelden. Può essere una di quelli che abbiamo salvato. Però dipende anche... Otto anni fa no. Otto anni fa c'è sta come l'asso per farla stare nel casino. Come si è venuto a essere in Kirkwall? Evelina dice che ha fuori la blight, non il cerchio. Si ha presentato a la prima enchantero sull'arrivo e ha chiesto di prendere il suo posto qui. E non suono come un fugitivo. Qualcun altro. Nel nostro file indicano che ha petizionato a Meredith per il supporto finanziario di numerose altre preadolescenti. Evelina dice che ha avuto un'adeptata a Meredith per il suo posto finanziario di numerose altre preadolescenti. Il secondo apostate è Emile de Lancer, il cinque figlio del Compte de Lancer. Fuori di Hightown. Nel nostro nobile più vocale e delicato. Sono a casa in avanti, autori di complenze. Ok, questo mi pare che l'avamo anche sentito. Ci abbiamo proprio chiacchierato. No, forse era nel DLC che c'era un lonsetto, come si chiamano. Sono stati interrogati. Parlatemi della famiglia. Ma scusa, ma non c'hai nessun sentimento o emozione e te trucchi? O è Meredith che la mattina se mette là a dirgli mettite il trucco? Va bene, posso parlare con te? Mie freganca. Però peccato, perché loro potevano un attimo ampliarla pure qua la cosa. Cioè, perché deve essere tutto bianco e nero? Cioè, perché devo dire sì, sto con te o no, non sto con te? Fai, dammi la possibilità di dire sì, lo sto fa, ma perché mi rendo conto del potenziale che c'ha un mago. No, è letteralmente bianco e nero. Sto con te o sto contro te? Eh, va bene. Ripeto, io mantengo il roleplay così a basso, basso, raso, raso al terro. Al terro, al terreno. Perché così posso fare. Va bene. Tante chiacchiere. Eh, non credo, perché mi stanno dando soltanto delle... Cioè, per carità, io se dovessi, ripeto, dire qualcosa a Ruka. Ruka non è neutrale, eh, perché tende molto di più dai templari. Ma non come Meredith, perché Meredith ha detto, no, questi bisogna trovarli. Eh, il destino della morte o della tranquillità, tutte quelle cose, ho fatto che cazzo. Cioè, manca sta a fa' così. Però, il gioco invece ti dice di qua o di là. E tanto mi forzeranno poi a prendere proprio una posizione. Perché se hai capito, questo conflitto sarà una roba greve. Sarà una roba molto greve. Nissa. Nissa. Ehm, cambiato? Ehm, è un mago del sangue. Io lo chiedo, anche se non è che se lo può immaginare. Tanto è bella sta cosa, perché la magia del sangue è qualcosa che anche con lo sguardo puoi controllare qualcun altro. E c'è il push-up, Star. Poi puoi essere pure perché sta delato, eh. Però effettivamente sembrava più petite con la vecchia armatura. Ehm, non l'hai detto a nessuno? Eh, perché la prossima volta che torna se la porta via con la magia del sangue. Ehm, ci ha messo dentro il cotton fioc. La, come si chiama, la spugnetta. Ehm, quando dovrebbe tornare? Eh, io te lo dico. La gura si chiama... Marchio in fronte e calma. Se proprio voglio non mostrargli... Un po' di amore, ma... Conoscendo un Meredith, secondo me lo scapoccia sul posto istantaneamente. Andiamo qua. Ok, questa è greve. Però, secondo me, vedete qua ci sarà quello stronzo. Quella un po' meno. Quello che si fa i cavoli suoi. E Meredith, giustamente, invece. Tutta l'erba un fascio. Quello che si fa i cavoli suoi. Quello che si fa i cavoli suoi. E il tuo sangue avrà nuova vita ai nostri figli. Allora, bellissimo l'effetto con cui hanno fatto intendere la magia del sangue, quella del controllo mentale. Ma tu sei schizzato male. Come hai potuto? Oh! Oh! Che forza hanno mantenuto un po' di budget per la roba finale. Sitti tutti! Zio! Comunque, sarei forte! Ma rimani un mago. Oh! Guarda che bello! Non credo abbia mai infartato così pesantemente Twitch. Ma era proprio a livello del... Del... Si è rotto su più punti! Porca puttana! Dopo controllo, eh. Perché magari è il mio stream che ha fatto qualcosa. Però mi sembra strano che vadano tutti i siti ma non vada Twitch. Porca Eva! Adesso c'ho il panico. Meno male che me ne sono accorto subito. Avete visto? Un attimo, che c'è voluto? Rieccoci qua. Perdonate il dramma iniziale, ragazzi. Tu ti stanni subito. È così. Adesso devo stare a guardare sempre lì. No, ha già fatto sta cosa. Il bastardo. Ce l'ha proprio come inizio di roba. Ce l'ha proprio come inizio. Madonna, adesso ho il panico, ragazzi. Adesso ho veramente il panico. Madonna. Stavo dicendo che figata comunque che te lo fa sentire proprio che è un mago del sangue perché controlla tutti, blocca tutti. È molto molto figa come roba. Eh, ho preso un sasso per sbaglio. Ma stai a cu... Eh, seppure fullato. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Madonna che cosa hai ricacciato fuori. Che poi quel coso ha pure fallito brutalmente. No, stai a cuccia. Eh, però a pubblicità fai partì Twitch, eh. Taci tua. A pubblicità però fai partì. Grazie per il support. E anche chi ha fatto l'abbonamento. Va bene, mancano le ombre. Questo è finito. Beh, è stata bella tutta la cazzi nelle cose. Stivali della campionessa. Perché ce l'hai tu? Formula e veleno di fell. Va bene. Abbiamo il set completo, ragazzuoli. Dov'è? Oh, madonna. Guardali che... Ma tanto pure questi c'hanno quattro slot. Però metto offline e partire da pubblicità. Almeno noi ti abbiamo... Grazie, infatti belli. Madonna. Quando succede così mi casca veramente. Ok, andiamo a farci giusto l'ultima. E poi magari stacchiamo qua. Dove è dovuta crashare alla fine. Se no non ce la faceva. Mamma mia. Non avete idea del panico. Vabbè, qui. Perché c'ho il vago presentimento che in realtà saranno tutte bestie di satana? Non fate però la cosa basic. Fatemi la quest che mi fa vedere il peggio e il meglio dei cosi. Dei maghi. Walter. Abusivi. E questa è la casa di Evelina? Does Evelina live here? Why are you here? This is our home as much as it is hers. Evelina shared everything she had with us. Evelina found us when the dark spawn came. When our parents died. She made sure we got to Kirkwall safely. I'll miss her. But when she went to join the circle here, they called her apostate. For leaving the tower and for older. They locked her up. Ah, ok. Perché si è recata al circolo? She didn't want to stay free with you. She didn't want us to be stuck in dark town. She wanted to give us a real life. She thought the circle would help her, but they just locked her away. Ah, ok. Eh, può essere anche Streamlabs effettivamente. Però, cioè, sono... Il bello è che Streamlabs sta messo come processo alto, eh. Cioè, sta sopra i processi di sistema. Ho messo... Quindi... Non lo so. Voglio aiutare Evelina. Se mi dici dove è Evelina è, ho provato il mio bestia per aiutare. Tu puoi, trust me. Niente si può aiutare. I Templari hanno fatto Evelina freddo. Hanno fatto la cambiamento. Non era la sua culpa. Quando è successo, lei era assicurata. Lei si è riuscita in i tunnel e si è riuscita. Shut up, Cricket. Don't tell them that. She's in the sewers, child. You can't go there. She'll know we told you and she'll be angry at us. Angry? I didn't like when she got angry. We... We have to hide. Cricket! Eeeh... Meredith ha fatto qualcosa. Questi... Questi non erano maghi. Erano maghi normali. Meredith gli ha fatto qualcosa con l'Irium Rosso. Non so perché me puzza sta cosa del... Se sono rotti dei filatteri. Sono scappati degli eredici. E tutti e tre sti eredici che sono scappati. Mo, non so st altri due. Però il primo era greve. Non era un maghetto del cazzo. Era greve, mago del sangue. Questa... Buonissima poi è cambiata dopo che l'avevano rinchiusa. Però finiamola qua oggi. Finiamola qua. La facciamo pulita. Che non si sa mai. Ce ne andiamo di qua. Devo capirla sta cosa. Devo andarmi in realtà a guardare i cosi di Streamlabs. Perché magari pure lui è infartato malissimo. Però sono più convinto per Twitch, Jorak. Semplicemente perché quando provavo a rifare la connessione. Mi diceva che non riusciva a prendere i dati da Twitch. Non riusciva a prendere la Ki e i cazzi di massimo. Infatti per un attimo ho pensato. Ecco qua, mi hanno bannato. Perché era talmente tanto incasinato. Che non mi faceva vedere la cosa. Che mi dava errori ovunque. Anche nel sito. Che ho detto, vabbè, mi hanno bannato. Cioè, per forza. Anche perché ci sono provato ad andare col telefono. E non mi andava su Twitch con la connessione di dati del telefono. A meno che sia stato una delle solite cose che succede in Italia. Che infarta internet momentaneamente ovunque. Che può essere. Però peccato. Probabilmente questa in realtà la prossima volta ce la rifacciamo da capo. Ce la rifacciamo da capo. Molto più pulita. Perché tra lagate, crash, gazzi e mazzi. Poi per carità vedrò. Perché tanto questa devo scaricarla e riappiccicarla. Credo. Fa vedere. Fa vedere se devo riappiccicarla. Ma sicuro. Porca puttana. Ci sta anche quel pezzetto in cui ero riandato online ma non mi leggevate. Cioè, ci stanno anche quei 50 secondi di... Dio che faccio, raga, sto qua. Oh, che non mi vedete. Porca puttana. Profigata. Siamo parecchio in conclusione. Cioè, non me ne aspettavo. Ok che pensavo fossero un pelino più corti. A meno che questo capitolo non vuole prendersi più sul serio o sul main plot. Il che non sarebbe per forza di cosa una roba cattiva. Anzi, l'apprezzo. Cioè, se vogliono fa che... Ok ti fai le tue questioni del cacchio. Iniziare i collegamenti. Ok. Però la maggior parte della ciccia magari vogliono metterla sulla guerra maghi templari. Questa è una cosa che apprezzo. Perché vuol dire che tu mi fai vedere del concreto e chissà anche dove va a parare. Sicuro come l'oro... Orsino è un mago del sangue. Sicuro. Meredith sta a fare qualcosa con l'irium rosso. Che tra l'altro è molto figa anche sta cosa del lirium rosso. Perché ricorda in un altro modo un po' come se tu usassi la magia del sangue. Cioè, c'ha tipo la controparte magari che potrebbero usare i templari o le persone normali. O cazzi ai mazzi vari del... Della magia del sangue. Quella è una roba molto molto intrigante. Tocca vedere come si sviluppa perché sta quest puzzicchia. Buonanotte sta ci vediamo domani. Non vedo la chat ve lo dico. In caso ci siamo non leggo la chat perché non me la sta facendo apparire. Ah no aspettate è apparsa la chat. Boni tutti è apparsa la chat. Bentornati. Vogliamo chiudere. Prima di chiudere però. Prima di chiudere. Io voglio far vedere una cosa. Non posso zoomare di più. Ragazzi prima che ricrascia tutto. Che succede puttanaio. Grazie a questi cinque eroi. Penso siate voi. Che siete rimasti fino alla fine di sto cazzo di caos. Di merda finale. Vi ringrazio per la compagnia. Mi dispiace per questi 20 minuti finale live. Però questo è il bello della diretta ragazzuoli. E niente. Sperando che non succedano gazzi pure domani sera. Ci vediamo domani sera con il finale di Bioshock. Ricordate sempre. Corgi Gang. Fa Bang Bang. Buonanotte belli. Grazie sempre di tutto della compagnia. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie.